Oggi con noi c'è la dottoressa Spinardi che è a capo del Technology Transfer Office della Fondazione Cagranda dell'ospedale Maggiore Policlinico. Laura, ieri abbiamo avuto il Rettore Pietrabissa che ci ha fatto un'introduzione un po' macro del tema del Technology Transfer, della terza missione delle università. È stato, come sempre, molto chiaro e molto divertente anche. Ha avuto tantissime domande, io sono sicura che sarà così anche per te. Ti lascio la parola, tu sei già microfonata e niente, the floor is yours. Thank you so much. Good morning everybody. If you don't mind, I could speak Italian if you all understand Italian. I feel so funny to speak English while we are all Italians. Quindi, passerei all'italiano, se poi qualcuno non comprende, anche perché al Rettore hanno lasciato un tema molto divertente, a me hanno lasciato il tema, direi, più tecnico di tutti e quindi ci sono dei vocabolari e delle terminologie che già sono difficili in italiano e in inglese corro il rischio di perdervi per strada. Allora, cominciamo. Oggi, queste prossime ore, parleremo di come proteggere i risultati della ricerca. Faremo un escursus completo e quindi tecnico di questa tematica. Vi prego di interrompermi. Io ho impostato la lezione come un momento interattivo, però vi pregherei di alzare la mano, chiedere dettagli. Abbiamo ampio tempo per approfondire. Vorrei alla fine di queste quattro ore non avervi dato tante informazioni confuse, ma informazioni che hanno un senso e che vi portate a casa come bagaglio tecnico per questa attività. Mi presento. Io sono un biologo di formazione con un dottorato in neuroscienze e ho fatto ricerca in Italia, all'estero, per i primi 15 anni della mia vita professionale, tra cui NYU Medical Center, NBL di Montero Tondo, NBL di Heidelberg, finché nel 2007 sono stata chiamata presso l'ospedale Cagranda Maggiore di Milano per una sfida, impostare le attività di trasferimento tecnologico. Vi confesso che a quel tempo di brevetti conoscevo zero, facevo il ricercatore. L'unico momento in cui avevo sentito parlare di ricerca era appunto a New York, al NYU Medical Center, quando ho iniziato il mio PhD, perché in America il primo giorno di lavoro due cose devono essere fatte. Visita medica, con tutti i controlli necessari, e un saluto all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, con tanto di notebook che poi vi descriverò, cosa che per noi è pratica assolutamente sconosciuta. Quindi da allora non avevo più ovviamente brevettato nulla, ma soprattutto sentito parlare. Quindi nel 2007 inizio questa avventura e sono ancora qui, ecco. Quindi oggi questi argomenti che io trasmetto anche ai miei ricercatori, vorrei trasmetterli anche a voi come punto di ricerca. Nel frattempo ovviamente le attività sono andate avanti, adesso sono membro riconosciuto, professionista riconosciuto a livello europeo, quindi sono dei pochi RTTP italiani. Sono membro del gruppo del lavoro del TTO presso il Ministero della Salute, abbiamo fondato questa rete nel 2016 che è ancora attiva. Sono membro del Consiglio Direttivo di Netval, sapete che questo corso è stato appunto organizzato in collaborazione con Netval e Human Technopole e sono parte del Commissione di Formazione Professionale Europea sui professionisti del Technology Transfer. Adesso, so che ieri avete già fatto questo giro di presentazione, però vi chiederei velocemente di presentarvi e l'informazione che vi chiederei di aggiungere a quella che forse ieri avete dato velocemente e se avete mai avuto occasione di affrontare il tema dei brevetti, eventualmente di licenze, insomma, primo contatto oppure siete già dei navigati su questo. Magari comincerei qua, velocemente chi siete, da dove venite e di che cosa vi occupate. Grazie. Ciao, sono Daniele, sono un postdoc qui allo Human Technopole nel centro di neurogenomica e ieri non c'ero quindi anche per me oggi è il primo giorno e no, io non ho alcune esperienze di brevetti. Salve, sono Dominic Salamone, vengo dall'Università Federico II di Napoli, io non ho esperienza nei brevetti e mi occupo, sono un biologo anche io. Buongiorno, sono Fabrizia, sono postdoc all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e al momento il mio primo contatto con i brevetti è che la piattaforma su cui stavo volando ha un brevetto concesso, ma non ne so molto di più. Buongiorno, sono Eva, lavoro al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali e nel mio dipartimento abbiamo provato a depositare un brevetto ma non c'erano ancora i presupposti, quindi il progetto non era ancora sviluppato al punto tale da poter depositare un brevetto, però ovviamente speriamo. A breve. Ciao, sono Sara, sono un PhD all'Università Ca' Foscari di Venezia e non ho diciamo un contatto diretto con brevetti, non ho avuto esperienza. Buongiorno, mi chiamo Cristina, sono ricercatore all'Università Bicocca, ho visto tra le altre sue esperienze anche questa. Anche quella. Fino ad ora mi sono occupata di prodotti della ricerca, per cui brevetti ci stiamo avviando. Facendo amicizia, va bene. Buongiorno, sono Gloria, io sono la ricercatrice del Centro Cardiologico Monzino e nel mio gruppo di ricerca sono stati depositati diversi brevetti, quindi qualcosa nemastico, però vorrei approfondire di più. Buongiorno, sono Esther, sono postdoc a Vienna, al Vienna Bio Center e nel nostro ultimo studio abbiamo depositato un brevetto, io sono in parte in questo brevetto, però non sono stata molto coinvolta nella stessura e ne vorrei sapere di più. Ciao, io sono Alessia Mellacarne, lavoro in Humanitas, sono un postdoc e sì, noi abbiamo brevettato, abbiamo depositato un brevetto su peptidi ad uso antitumorale. Buongiorno, sono Andrea Colarus e sono un postdoc all'Università Federico II di Napoli. Seppure non ho mai sottomesso un brevetto, l'argomento della nostra ricerca è già oggetto di brevetti pregressi, per cui sarei interessato anche a sapere quali sono i nostri margini di movimento. Buongiorno, sono Cristina, sono un postdoc all'area Science Park di Trieste e quindi di formazione sono un chimico farmaceutico, ma da un anno e mezzo sono in area Science Park, dove c'è proprio un ufficio di valorizzazione della ricerca, il Patlib. Quindi io personalmente non, ma da un anno e mezzo ci provo. Grazie. Salve, io sono Sandra e lavoro nel, sono un postdoc al laboratorio di epigenetica della Maugeri di Pavia e sono anche un chimico farmaceutico e studiamo per lo più enzimi e farmaci che possano avere un effetto sugli enzimi epigenetici e abbiamo depositato un brevetto da poco e quindi sono molto interessata. Buongiorno, sono Morris e sono un medico e ricercatore presso le patologie dell'Università di Foggia. Al momento collaboro con un prof di ematologia che ha depositato un brevetto, ora ci ha fatto anche una start-up, però è una cosa molto giovane, io ne so veramente molto poco. Buongiorno, sono Giovanni Misbano e sono un dottorando in scienze chimiche e farmaceutiche di l'Università di Pavia. Ho avuto esperienza di brevettistica con un corso di dottorato e un esame a riguardo e sto seguendo un corso di Open Innovation della Regione Reggio Emilia. Buongiorno, io sono Simone e lavoro qui allo Human Technopole nella Technology Development Unit e ho un brevetto depositato nel 2010 ma durante il dottorato di cui non ho preso parte alla stesura, quindi tabula rasa. Buongiorno, io sono Francesca dal Politecnico di Milano e la piattaforma su cui lavoro ha un brevetto pending, quindi per quello sono qui. Buongiorno, sono Lucia, sono postdoc anche al Politecnico di Milano e non ho esperienza assolutamente. Buongiorno, sono Gianmaria, anch'io sono postdoc al Politecnico, sono un ingegnere fisico di formazione. Nel mio laboratorio abbiamo un brevetto concesso in Italia, Europa e Battela Pesca e Stati Uniti e un altro pending su un altro aspetto della tecnologia. Anche noi lavoriamo con piattaforme fluidiche e quindi c'è un po' così. Niente. Ciao, sono Alice, PCD studenta al Mario Negri di Milano. Di formazione sono un chimico analitico, lavoro nella ricerca clinica e preclinica, ma non abbiamo ancora esperienza nel technology transfer. Giusto, curiosità. Buongiorno, sono Anna e sono postdoc all'Igm CNR di Pavia e neanche ho esperienza con i brevetti. Buongiorno, sono Miriana, sto finendo il mio percorso di dottorato all'Igm CNR di Pavia e non ho nessuna esperienza, anche io. Buongiorno a tutti, sono Claudia, postdoc all'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Biomediche e pochissima esperienza anche per me nel campo brevetti. Ciao, sono Francesca Coscia, sono un gruppo leader qui a Human Technopole, mi occupo di meccanismi molecolari della tiroide e mi piacerebbe convertire parte delle nostre ricerche in brevetti, ma non ho alcuna esperienza. Buongiorno a tutti, sono Paola e sono dottoranda al Politecnico di Mirano in bioingegneria e al momento sulla tecnologia su cui sto lavorando per il dottorato abbiamo tre domande di brevetto e una è appena stata concessa. Buongiorno, sono Francesco De Gaetano, sono un bioingegnere, ricercatore al Politecnico di Milano e anche founder di una start-up, quindi ho un po' di esperienza con la parte brevettuale, ma più si lavora sui brevetti più c'è bisogno di conoscerlo e quindi eccoci qua. Va bene, allora grazie. Interessante la varietà delle vostre esperienze. Io da biologo ho portato degli esempi che sono ovviamente vicini al mondo della biologia, però vi prego domande, informazioni, chiarimenti, non esitate perché è bella l'interattività. Di che cosa ci occupiamo? Allora, sarà un escurso sui vari tipi di protezione di proprietà intellettuale, ma come ricercatore vorrei iniziare da una domanda. Quando iniziamo ad occuparci di proprietà intellettuale? E qui c'è un elenco poi degli argomenti che tratteremo, ce ne sono molti di più, però se riusciamo almeno ad occuparci e a trattare queste cose, sono molto contenta. Allora, quando iniziamo ad occuparci di proprietà intellettuale? Nella mia esperienza e nelle interazioni che io ho avuto con i miei ricercatori, la risposta è troppo tardi rispetto a quando sarebbe opportuno occuparci di questo tema. Io so che ieri il professor Pietrabissa ha dissertato con voi su perché le università devono brevettare tutti questi argomenti che sono stati negli ultimi anni sfortunatamente o fortunatamente oggetto di tante discussioni. Non riprendo questo discorso, però vi porto un esempio. Ho visto che ci sono dei chimici e quindi la domanda che sto per fare chiederei di un attimo di silenzio perché lo so che il chimico sa la risposta, conosce la risposta. E quindi che cosa sono queste due strutture tridimensionali sulla destra e sulla sinistra? Avete un'idea? A parte i chimici, se è un viola, allora puoi rispondere. Allora, vi aggiungo, vi do questa informazione, con questo ho risposto praticamente alla mia domanda. Carbonio. Allora, sono sicuramente strutture in cui l'elemento costitutivo è il carbonio, però sono due strutture molto diverse. Carbonio e grafite. Diamante e diamante. Ok, chi è chi? Chi è chi? Va bene. Allora, questa è, a partire dal carbonio, madre natura riesce a, diciamo, strutturare la conformazione degli atomi per dare origine o alla grafite o al diamante. E non credo di dovervi illustrare le caratteristiche di questi due materiali, ok? Perché in realtà non c'è il migliore o il peggiore. La grafite è tra gli elementi, ups, ups, scusate, tra gli elementi più morbidi che noi conosciamo e il diamante è tra gli elementi più, diciamo così, duri nella scala appunto della durezza. Il diamante ha un valore ma se io devo scrivere su un foglio preferisco la grafite. Questo per dirvi cosa? Che a partire dallo stesso problema, dagli stessi risultati, a secondo della mia impostazione del progetto e della direzione che do a questo progetto posso ottenere risultati, prodotti diversi. Quale meglio, quale peggio? non c'è una risposta definitiva né un elemento distintivo se non l'uso per cui io ho pensato queste attività. Ed ecco che il mio suggerimento è il project management è una delle attività che noi ricercatori, io in primis credo di non averlo mai fatto nelle mie attività di ricerca, dovremmo invece pensare anziché entrare in laboratorio con la pipetta in mano pronti per l'esperimento del giorno forse un momento di progettazione per capire dove devo andare e cosa voglio fare di questo progetto e quali prospettive future ho sicuramente sarebbe un grande valore aggiunto alla nostra attività. E qui riprendo un elemento che tutti noi abbiamo spero nei laboratori i nostri quaderni di laboratorio. Vi dicevo che quando ho iniziato a lavorare all'Enwayo Medical Center mi hanno dotato di un libro rilegato con pagine numerate doppia coppia di ciascuna pagina quindi avevo due pagine 1 due pagine 2 una gialla e una bianca perché? Perché quella gialla veniva strappata e tenuta poi dal ricercatore quella bianca rilegata assolutamente inamovibile veniva conservata presso l'ufficio di trasferimento tecnologico dell'Enwayo Medical Center. Io vi faccio chiudere gli occhi e pensare ai nostri quaderni di laboratorio quelli che usiamo noi in Italia se ci sono e come sono strutturati questo perché? Perché ci manca questa capacità di raccogliere in maniera sistematica i dati che produciamo e se posso dirlo spesso e volontieri il Westerblot che non è venuto piuttosto che la PCR che non ha dato il risultato finisce regolarmente nel cestino questo è una cosa che non deve essere fatta soprattutto pensando alla possibilità di brevettare i risultati quindi pensando alla opportunità di tutelare le nostre soluzioni i risultati negativi andrebbero correttamente descritti nel nostro quaderno di laboratorio poi adesso in tutto il mondo la regola è il primo che deposita è diciamo così l'inventore della soluzione un tempo era il primo che la descriveva e il primo che in qualche modo la rappresentava ecco perché erano rilegati i quaderni di laboratorio perché venivano poi firmati dal ricercatore dal capo laboratorio e avevano una data perché allora negli Stati Uniti era first to invent detto questo spesso li scriviamo a pen spesso dividiamo la parte di biologia molecolare dalla parte di biochimica dalla parte di tutto una cosa poco sistematica questo è sicuramente un set of mind che deve essere cambiato e anche perché come vedremo dopo i risultati negativi sono molto preziosi in ambito di brevettazione una curiosità come sono i vostri quaderni di laboratorio digitali beh questo questo è già sicuramente un punto importante però sono convinta che i risultati negativi vanno vanno nel cassetto sono digitali chi non ha i quaderni di laboratorio digitali come gestisce e le raccolta dei risultati siamo tra colleghi l'abbiamo fatto tutto quindi non vi vergognate poi vi spiego perché perché è successo ai miei ricercatori e quindi ci tengo a evidenziare questo carta e penna vabbè già non è matita che è una cosa interessante già non sono quei fogli le bustine dentro cui vengono infilate le cose poi i folder spostati avanti indietro queste cose qui dove dici ah non so dove l'ho messo ah sì qui no lo metto davanti no viene dopo altre esperienze quaderno che resta in laboratorio va bene va bene il quaderno dove si scrivono in bello stile ma rilegato no perché Mario Negri no umanità sa va bene beh umanità Mario Negri è l'unico che ha anche lui un sei un registro rilegato con le pagine numerate qui c'è poco da fare se non c'è l'istituto che lo che lo fornisce buffetti e si comincia a numerare la paginetta uno due tre quattro e fine no quindi ci diamo del tuo ovviamente tu hai la doppia copia del digitale cartacea va bene allora sicuramente importante e sicuramente importante riprodurre anche riportare descrivere anche i risultati negativo vi prego non buttate di più via non lasciateli nel cassetto descrivete con la stessa attenzione del risultato che stavate cercando e poi capiremo perché altro punto importante per cui è bene avere una diciamo così pensiero a lungo termine sul progetto riguarda la parte più biologica della componente di ricerca e cioè la raccolta di campioni la classificazione di questi campioni spesso sono campioni biologici cellule anticorpi tessuti di animali ma a maggior ragione se sono dei campioni biologici umani la necessità di raccogliere i documenti opportuni necessari e dovuti per poter utilizzare questi campioni biologici umani quindi consenso informato abbiamo fatto tutti i ricercatori con il campione o la provetta nella tasca io ricordo viaggi e lo confesso anche se sono registrata qualche Eppendorf in tasca tranquillamente si portava nei viaggi più o meno nazionali e internazionali ecco finché ci sono degli anticorpi commerciali si fa nel caso di campioni umani io non dico che non si sia fatto e non si faccia ancora però è bene prima di trasferire questi campioni di dotarsi di tutte le opportune autorizzazioni da parte del paziente e da parte dell'istituto che ha raccolto i campioni non avremo tempo ma spero che il professor Granieri vi parli del trasferimento di materiale del trasferimento di dati c'è una regolazione molto molto importante che deve essere ottemperata quindi ecco perché è bene sapere che cosa voglio fare dei miei risultati perché poi tornare indietro e raccogliere questi dati può costituire un problema e oggi in Italia non si può depositare un brevetto che comprenda materiale biologico umano senza l'opportuna documentazione di consenso informato da parte del soggetto che ha donato questi campioni devo dire che ancora oggi ho ricercatori che spediscono in realtà essendo un ospedale trasferiscono tra laboratori allora internamente allo stesso istituto non è un problema importante ma per esempio noi siamo un IRCS convenzionato con l'università l'università è un soggetto giuridico l'IRCS è un soggetto giuridico i pazienti vengono ricoverati nell'IRCS non vengono ricoverati in università spesso e volentieri col cappello dell'università vengono spediti campioni o utilizzati inseriti nei progetti campioni biologici umani questo va regolamentato prima dopo è una rincorsa recuperare qualcosa che non è stato fatto in maniera in maniera opportuna quindi abbiate chiaro in mente che cosa vi serve cosa dovete ottenere e per poter poi utilizzare i risultati che ottenete con questo materiale allora entriamo nel vivo dell'argomento che cos'è una proprietà intellettuale so che ieri il professor Pietrabissa ve l'ha descritto sotto vari punti di vista la proprietà intellettuale riguarda qualunque creazione della mente umana quindi è un asset cosiddetto intangibile i diritti di proprietà intellettuale sono quelli correlati a questo asset intangibile e sono essenzialmente dei diritti legali intangibile perché appunto non è una sedia non è un palazzo la cosa più concreta che avete di un brevetto è il testo del brevetto stampato come un manoscritto tutto il resto è appunto intangibile esistono vari modi per proteggere la proprietà intellettuale e assicurarsi i diritti di proprietà intellettuale oggi ve li proverò a descriverveli tutti vediamo come andiamo ovviamente la parte relativa ai brevetti è quella un po' più complessa e ci soffermeremo un po' di più su questo su questo argomento ma toccheremo anche i diritti d'autore i marchi e il know-how e i segreti industriali vedete qui appunto l'elenco i brevetti riguardano le nuove invenzioni devono essere depositati come domande di brevetti vengono questo deposito appunto si chiama application e questa domanda di brevetto viene esaminata da appositi esaminatori che valutano le richieste superato questo esame che può essere più o meno lungo vedremo quanto tempo può richiedere allora avremo un brevetto concesso possono esserci brevetti meccanici brevetti elettronici brevetti di life science non so se per curiosità avete mai scaricato il brevetto del vaccino covid depositato da biotech sono 876 pagine di brevetto ecco devo dire che con un numero infinito di rivendicazioni copyrights questi sono dei diritti originali ma creativi intrinseci all'attività della creazione sono forme artistiche ma vedremo poi non solamente forme artistiche esistono automaticamente al momento dell'opera creativa quindi non hanno la necessità di essere registrate esempio tipico un'opera letteraria mentre io scrivo la mia opera letteraria automaticamente sono titolare del mio diritto d'autore Marchi questa è un'attività molto interessante in ambito scientifico poco considerata anche se poi vi porterò degli esempi per cui direte non è vero che non è utilizzata siamo noi che non facciamo attenzione ma in realtà è più frequente di quello che non ci viene dato di osservare anche questi sono dei diritti correlati a qualcosa di distintivo di un prodotto o di un servizio e anche questi devono essere registrati un esempio Google poi abbiamo i design che sono una forma inventiva meno complessa rispetto ai brevetti e riguardano più la forma e diciamo così l'apparenza esterna un tipico diritto di design non so se vi ricordate per un certo periodo sugli scaffali del supermercato sono comparsa le bottiglie di Coca Cola a due con l'etichetta che avvolgeva le due bottiglie ecco quel modo di impacchettare e disporre sullo scaffale cioè di due bottiglie con il fascione Coca Cola era un design registrato utile non utile commercialmente distintivo compravo due bottiglie legate insieme da un'unica etichetta anche queste necessitano una registrazione e poi ci sono i segreti industriali dove in realtà proprio perché sono segreti non devono essere rivelati e descritti da alcuna parte la differenza fondamentale di tutti questi diritti legali è rappresentata dal fatto che brevetti marchi e design modelli di modelli di disegno devono essere registrati gli altri sono intrinseci alla creazione e non devono essere quindi depositati affrontiamo il tema dei brevetti allora il brevetto è un diritto di proprietà intellettuale che è correlato a un'invenzione tecnica non è un diritto positivo io credo che anche su questo concetto ieri il professor Pietrabissa abbia insistito spesso si sente dire il brevetto posso fare no in realtà il diritto che conferisce un brevetto è un diritto negativo io posso impedire a terzi di realizzare usare vendere importare l'oggetto descritto nel mio brevetto è un monopolio quindi che un particolare stato concede all'inventore ed essendo un monopolio e un contratto dietro è sotteso uno stato di comportamento io stato conferisco a te questo monopolio tu inventore devi descrivere in modo molto accurato la tua invenzione e dopo un certo periodo di tempo renderla pubblica in modo tale che tutti possano conoscere l'oggetto della tua invenzione e del tuo monopolio quindi l'obbligo di renderla pubblica è intrinseco al patto al contratto che viene fatto dallo stato abbiamo detto che è un diritto territoriale quindi è un diritto che io acquisisco negli stati in cui lo richiedo non mi viene concesso automaticamente se in quello stato non ho fatto domanda di brevetto non ho nessuna possibilità di avere un monopolio su quel particolare prodotto ovviamente essendo un monopolio non è infinito nell'ambito dei brevetti questo monopolio ha una durata limitata di 20 anni adesso sono 20 anni in tutto il mondo un tempo erano per gli Stati Uniti 17 anni poi in Italia in ambito farmaceutico si riescono a ottenere diciamo così delle proroghe legate all'ottenimento dell'autorizzazione di emissioni in commercio per cui il ritardo di questa autorizzazione può può concedere una proroga nella durata del brevetto però non è infinito terminato questo in ambito farmaceutico terminato il monopolio del brevetto ecco che partono la produzione di tutti i farmaci generici che voi conoscete bene allora sull'importante veramente ricordarvi che con l'ottenimento di un brevetto non ottenete l'autorizzazione a fare nulla ottenete la possibilità di evitare che altri facciano e quindi se io devo realizzare la mia la mia invenzione che cosa devo fare tra breve esamineremo il concetto di libertà di attuazione la cosiddetta freedom to operate che non è intrinseca alla concessione del brevetto è un'attività che voi dovete fare indipendentemente dal brevetto concesso la definizione di invenzione è soluzione tecnica a un problema che può essere che deve essere descritta e può essere riprodotta quindi in questa definizione sono contenute due concetti importanti dobbiamo avere un problema e dobbiamo fornire una soluzione tecnica non tutti i risultati che voi avete sul vostro libro di quaderno di laboratorio possono diventare un'invenzione e possono essere brevettati devono rispondere devono essere la soluzione tecnica in risposta a un problema tecnico un'invenzione non è una scoperta spesso sorrido quando nei vari comunicati stampa televisivi si dice la scoperta è stata brevettata no la scoperta non si brevetta perché non si brevetta la scoperta che differenza c'è tra un'invenzione e una scoperta esattamente non è abbiamo definito che l'invenzione è o comunque il diritto di proprietà intellettuale riguarda qualunque cosa oggetto del lavoro dell'uomo una scoperta non è un oggetto del lavoro dell'uomo è presente in natura e la nostra attività è semplicemente di scoprirla descriverla ok e qui ci colleghiamo a perché non si può brevettare il DNA umano eccetera eccetera non lo abbiamo creato noi lo abbiamo descritto siamo stati in grado grazie alla tecnica che oggi è disponibile di leggere la maggior parte delle sequenze presenti ma non è nostra opera ok e infatti esempi di ciò che non si può brevettare ma che usiamo correttamente i raggi X in quanto tali non possono essere brevettati perché esistono la pennicillina in quanto tale non è un composto creato dall'uomo esiste in natura è stata scoperta è stata isolata adesso si riesce a riprodurla con varie tecniche ma ne è stato diciamo così inventato l'uso ok ovviamente anche la gravità e vedremo perché la gravità non può essere non può essere al di là del brevettata al di là del fatto che appunto esiste in natura non l'abbiamo inventata noi dicevamo qualunque invenzione può essere brevettata no ci sono tre criteri domanda hai trasformato hai aggiunto hai aggiunto una parola importante come farmaco quindi che cosa implica il passaggio tra pennicillina in quanto sostanza e farmaco sei un medico quindi mi aiuti in questo l'applicazione ma non solo la formulazione la formula il dosaggio la via di somministrazione quindi c'è un passaggio o una sostanza come la utilizzo soluzione a un problema e non banale l'uso per quali indicazioni terapeutiche ok vedremo poi anche un caso di repurposing il cosiddetto secondo uso di un farmaco che è già in commercio ottimo ottimo punto allora dicevamo non tutte le invenzioni possono essere brevettate quando io scrivo una domanda di brevetto l'esaminatore che la legge verificherà tre criteri importanti e su questo si svolge l'esame della nostra domanda di brevetto e i tre criteri sono novità altezza inventiva e applicabilità industriale no ecco altro punto importante adesso li affrontiamo uno per uno e spero di riuscire a trasmetterli soprattutto l'applicabilità industriale in Italia la nostra invenzione prima di essere valutata dall'esaminatore viene valutata dal ministero della difesa nel caso in cui la riteresse utile per la difesa dell'Italia allora tale invenzione non può essere depositata ma viene utilizzata per scopi militari ovviamente deve essere un'invenzione etica anche questo l'eticità la leicità della mia invenzione viene valutata e importante soprattutto per noi che facciamo ricerca la necessità di avere una descrizione sufficiente della nostra invenzione torneremo anche su questo punto allora cominciamo scusate ho sbagliato freccetta che cos'è definito nuovo che cos'è la novità secondo voi come si definisce novità in ambito brevettuale che cos'è una cosa nuova ok quindi come ricercatore mai precedentemente descritta significa che non devo mai c'è di più c'è di più mai io molti dei miei primi inventori arrivavano con una serie di paper dicevano guarda guarda l'ho pubblicato allora se è stato pubblicato posso brevettarlo perché vale una pubblicazione no siamo in ritardo no non andava fatto prima quindi mai pubblicato prima poi dove convegni aperti convegni aperti a un numero non definito di persone quindi un lab meeting si può tranquillamente raccontare senza problemi un meeting di istituto non so dirvi se non c'è il controllo delle persone che accedono all'aula del meeting un meeting di istituto in cui si presentano i propri risultati è già pericoloso no no vai dammi del tu borderline davvero borderline voi sapete perché il brevetto ve lo anticipo perché è una storia che mi piace tantissimo sapete perché il brevetto del viagra di pfizer del sidenafil è stato revocato questo questo ci interessa perché a noi a noi scienziati quando scriviamo le descrizioni le scusate le discussioni nei nostri paper facciamo di quei voli pindarici che sono spaziali qualcuno la sa la storia no allora il sidenafil nasce come qui ci sono i chimici scusate la faccio semplice nasce in realtà come composto della pfizer per l'ipertensione agisce sul pato e delle prostagrandine e alla fine l'effetto finale è il rilascio delle cellule della muscolatura liscia che normalmente sono le cellule che rivestono esternamente i vasi e i capillari quindi viene brevettato con questo scopo poi si capisce che in realtà ha una seconda funzione che è la funzione per cui viene ribrevettato e da cui nasce il Viagra per le disfunzioni erettili grande protezione grande boom di mercato le vendite del sidenafil che prima come ipertensivo erano insomma non un granché perché avevano degli effetti collaterali con il nuovo dosaggio la nuova formulazione boom di vendita sul mercato della Pfizer ovviamente tutte le aziende farmaceutiche che è un pochino di dispiacere se lo sono preso e quindi si sono tutte unite 13 aziende farmaceutiche seguite da un famosissimo studio brevettuale per il quale ho lavorato tra l'altro ed ecco perché conosco questi dettagli e ho anche questa passione alla storia fanno causa al brevetto della Pfizer per fare una lunga storia breve due anni di lavoro intenso alla fine hanno questo studio brevettuale molto bravo ha trovato un paper su Nature di una sostanza che si chiama VUCA VUCA africana usata dalle tv africane che in realtà aveva una funzione un effetto molto simile agiva sul pato della trosta grandine e nella discussione finale del paper quindi nessun dato di evidenza nessun nulla a prova nella discussione un paragrafino che diceva poiché questa sostanza VUCA VUCA agisce sul pato delle prostrogandine e le cellule della muscolatura liscia possono essere coinvolte in questo effetto potrebbe essere efficace per il rilascio di tutta la muscolatura liscia compresa il microcircolo e quindi non hanno neanche citato l'effetto del problema della disfunzione erettile però già solo aver indicato che questa sostanza agiva su quel particolare pathway ha fatto sì che fosse un'arte prioritaria descritta in letteratura ahimè vent'anni no vent'anni prima no ma una decina di anni prima e sia stata usata come documento per invalidare il brevetto della Pfizer quindi quanto devo dire anche poco ma anche quel poco a volte ma quindi tutti i previsi che hanno un po' per stop cap tutte queste cose che ci fanno per accogliere fondi se puoi fare il brevetto io comunque lì devo dire qual è il mio clinico o qual è il problema devo dire qual è la mia soluzione al problema e devo in grandi linee descrivere come lo voglio risolvere quindi in qualche modo devo descrivere ad esempio nel mio caso che vogliamo sviluppare un indice di rischio con 10 molecole da usare come marcatori tumorali per migliorare la performance di questi marcatori io devo dire non posso dire quali sono i marcatori però devo dire che voglio fare un indice di rischio con una combinazione di 10 proteine va bene ma chi lo racconta tutto questo tutto questo lo posso raccontare faccio delle application a progetti di ricerca non so Start Cup Campania abbiamo partecipato quindi tutte queste diciamo manifestazioni allora questo è un tema molto sensibile tutti i professionisti che sono coinvolti nelle revisioni di progetti di ricerca progetti competitivi Start Cup sono ottenuti alla riservatezza e sono facilmente identificabili ecco fortunatamente i pitch sono di 5 minuti e io spero che la sua diapositiva sia che la tua diapositiva è molto generico tu però descrivi tu però descrivi un problema sì e proponi una soluzione non hai dati su questa però potrebbe venire un'altra persona che vede che c'è questo problema che vede qual è la mia soluzione che propone una soluzione simile ma in questo caso cioè nel senso da un punto di vista proprio di fine brevettuale conviene o non conviene partecipare a questo tipo di eventi allora l'entusiasmo del ricercatore è difficile da contenere diciamo che i contenuti che vengono rivelati devono essere meno dettagliati possibili poi confidenzialmente probabilmente qualcuno avrà visto il vostro la vostra richiesta però questi sono tenuti a riservatezza la divulgazione pubblica è veramente quello che uccide di più noi abbiamo depositato un brevetto di un famosissimo professore che è stato alla ribalta durante la pandemia perché era è colui che ha inventato l'ecmo in un convegno proprio per questo desiderio di raccontare che cosa poteva essere effettivamente fatto con la sua con questa con questa tecnica in una diapositiva ha anticipato 5 o 6 anni prima un'idea e quella è stata trovata dal revisore perché purtroppo questa è l'altra cosa attenzione non solo ai meeting non solo ai paper ma ai libri tutti i booklet degli abstract dei convegni adesso non viene neanche più richiesta automaticamente vengono pubblicati non solo più consegnati cartacei come peso fermaporta da portare a casa ma vengono pubblicati online e sono disponibili online e le pubblicazioni quando noi firmiamo l'autorizzazione autorizziamo alla divulgazione sono attività che quasi automaticamente voi fate però queste poi sono facilmente rintracciabili oggi sui motori dai motori di ricerca e vi assicuro che gli esaminatori sono bravissimi in qualunque lingua in qualunque angolo del web riescono a trovare intanto è vero che avevano trovato la presentazione del nostro ricercatore quell'unica diapositiva in mezza 50 dove e ce l'hanno portata come dire ah ah non è nuovo l'ha raccontata a un convegno o la diapositiva vai a spiegare che insomma quel tempo era solo un'idea avvenieristica eccetera era già descritta quindi tra l'altro è molto difficile definire il confine di che cosa è descritto e quanto sufficiente deve essere la descrizione adesso si dice devono esserci dei dati non basta solo più dipende dall'esaminatore questa è la mia risposta si chiede una grant non so Horizon oppure questi proof of concept diciamo lì è scritto quindi c'è una commissione che ha accesso all'idea come come bisogna comportarsi però c'è anche una selezione che avviene tramite una presentazione quindi per Bavola allora la presentazione credo che sia a porte chiuse non è pubblica come per esempio la Star Cup ancora una volta tutti gli esaminatori di qualunque tipo di commissione sono tenuti alla riservatezza poi tutti sappiamo che ogni tanto qualcosa viene condiviso e questo succede non possiamo farci nulla è anche vero che essendo una richiesta di finanziamento non possiamo raccontare oggi è una giornata di sole e domani sarà una giornata di pioggia devo dirgli qualcosa di più quindi lì c'è diciamo così il punto forza è la riservatezza dei referi molto più problematico invece oggi è la richiesta di alcuni ministeri il ministero di sicuro sta seguendo questo fantastico trend anche il ministero della salute di voler pubblicare e rendere accessibili online i dati ottenuti dal finanziamento da un finanziamento pubblico quindi per un certo momento c'è stato il desiderio di mettere online disponibili irodeta non già irodeta ecco noi ci siamo tutti un po' agitati devo dire e quindi attenzione il MUR non ha fatto questo questa richiesta così dettagliata però i famosi finanziamenti PRIN pubblicano una volta concessi un bello abstract dove ovviamente tutti noi abbiamo l'ambizione di raccontare nel nostro abstract più di quello che abbiamo in realtà in casa sappiate che questi abstract PRIN in lingua italiana vengono identificati dagli esaminatori quindi anche lì purtroppo nonostante tutte le interazioni che possiamo avere con i ministeri siate molto generici il grant è stato concesso il finanziamento è stato concesso quella descrizione che è pubblica scrivetela molto generica perché è uno dei documenti che viene spesso citato soprattutto se l'inventore è un universitario come arte prioritaria e il criterio di l'abbiamo detto quindi pubblicazione presentate le tesi tesi di dottorato oggi possono essere secretate anche lì è vero c'è una discussione pubblica però qual è diciamo così la grande definizione l'impossibilità di controllare chi accede all'informazione quindi la discussione pubblica di una tesi solitamente è un numero abbastanza controllato di persone ma il deposito della tesi presso le biblioteche quello rende veramente è un vero problema perché noi non abbiamo il controllo di chi va a consultare la nostra tesi ok quindi è possibile discutere la tesi secretare il documento per un periodo di tempo che ci consente quindi di non avere documenti già pubblicati su quell'argomento il meeting l'abbiamo visto pericolosissime oggi anche le email soprattutto quelle email che vengono ai me protocollate io sto facendo una battaglia con il mio direttore generale che mi chiede di protocollare la qualunque mail utile che entra in istituto è chiaro che una mail che arriva da un consulente brevettuale è una mail utile ma contiene delle informazioni che finché non sono depositate non possono essere divulgate e quindi ogni mese lavata di testa del mio direttore generale che mi dice dottoressa lei non protocolla le mail no no non le protocollo perché fino a quando non deposito il brevetto dentro la mail c'è un allegato io è vero che la protocollazione è un atto interno di istituto e sono tutti tenuti alla riservatezza ma può essere facilmente stampata io non controllo chi può stampare e può accedere a queste informazioni fino a quando il mio brevetto non è depositato la mia domanda di brevetto non è depositata attenzione purtroppo viviamo in un mondo pericoloso oggi facilmente si scambia l'informazione quante fotografie ai convegni con il cellulare ah bella questa diaposizione clic 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 questa è una divulgazione quello è un documento che testimonia che qualcosa è stato divulgato quindi la definizione è novità qualunque invenzione che non è stata descritta e divulgata prima questo è un criterio oggettivo ok o il documento di arte prioritaria esiste o non esiste o bianco nero o c'è o non c'è tant'è vero che in alcune aziende si depositano per esempio dei documenti in lingua coreana su delle ricerche di competitori eccetera e se poi questo particolare brevetto è di successo incidentalmente quando il brevetto è concesso si invia all'epo quel famoso documento in lingua coreana che solo tu conoscevi depositato dicendo guardate qui io ho un documento che potrebbe costituire arte prioritaria quindi c'è proprio una strategia nei grossi nei grossi sistemi dove avere un brevetto che impedisce ad un altro di fare e di produrre la mia invenzione è strategico un mondo che si apre noi non siamo così dentro queste attività thriller spy story però stiamo attenti stiamo attenti seconda caratteristica dove ecco dove cerchiamo questa invece è una diapositiva su cui vorrei che voi vi concentraste dove cerchiamo eventuali documenti già pubblicati allora io benché siamo passati 15 anni dall'ultimo paper che ho pubblicato la prima cosa che faccio papamed però lì ottengo solo le pubblicazioni scientifiche esistono dei motori di ricerca e dei database uguali al nostro pubmed scival scopus non so cosa usate che sono delle banche date gratuite che potete consultare e il concetto il metodo di consultazione è assolutamente analogo a quello dei paper scientifici o nomi di autori o keywords o istituti presso cui pensate avvenga quella ricerca sono gratuiti e ti consentono di identificare eventuali brevetti già depositati e pubblicati poi vedremo che non sono pubblicati subito il giorno dopo il deposito e pubblicati per orientarsi sulla strategia futura io non ho mai fatto una ricerca di questo tipo quando facevo il ricercatore vi ricordate che vi ho detto che il brevetto l'invenzione deve essere sufficientemente descritta anche i materiali e metodi nei nostri paper devono essere devono contenere sufficiente descrizione però non so voi quante volte avete provato a ripetere un metodo descritto in un paper e accidenti quel risultato non viene manca sempre quel dettaglio che fa la differenza in un paper si può fare in un brevetto non si può fare se qualcuno ripetendo la descrizione del brevetto vedremo poi le parti di un brevetto si chiama il miglior esempio possibile se ripetendo quanto descritto dentro il miglior esempio possibile del brevetto non riesce ad ottenere lo stesso risultato che voi avete detto di avere ottenuto quella è mancanza di descrizione e può comportare la revoca del brevetto quindi tutto questo per dirvi cosa a volte mancano quei materiali e metodo mancano quei trucchetti che fanno la differenza andate a cercarle nei brevetti perché lì le descrizioni devono essere accurate ok non è un micron che è diventato un milligram mi ha uno sbagliato e muoiono tutte le cellule quando aggiungi quella sostanza c'era un proofreading non ho fatto questo cambio in un brevetto questo può comportare la revoca del diritto brevettuale quindi le banche dati brevetti sono un'immensa fonte di informazioni dettagliate per realizzare esperimenti conoscere come sono stati ottenuti dei risultati consultateli nonché ovviamente sono una grande sorgente di informazione per capire che probabilmente anche se non c'è quel paper pubblicato su quel particolare esperimento su quel particolare risultato esiste un brevetto depositato quindi qualcuno sta già lavorando su quello che voi magari volete cominciare a fare la settimana prossima quindi e sono gratuite come banche dati poi esistono delle banche dati a pagamento orbit intelligence global data insomma questi sono però per il nostro lavoro quotidiano non fa differenza quello che si trova su WIPO quello che si trova su EPO adesso anche UiBM comincia a rendere disponibili testi di brevetti italiani ma devo dire che EPO e WIPO Patenscope sono guardate proprio se ve la posso dire anche Google Prior Art vi fornisce le stesse informazioni è proprio solo l'abitudine di inserire due parole chiave dentro il motore di ricerca e ottenete di quelle informazioni preziosissime almeno per una lettura diciamo così conoscitiva meritevole di approfondimento magari eh no questa non doveva è partita va bene che cos'è altezza inventiva qui viene introdotto un concetto che è la persona esperta del ramo quindi non il passante che possiamo incontrare dal giornalaio ma l'esperto in questo particolare settore in cui ho proposto la mia invenzione lui è il metro della conoscenza e dell'altezza inventiva della mia invenzione che cosa vuol dire abbiamo detto che l'invenzione è una soluzione tecnica io esperto del ramo so conosco la tecnica A conosco la tecnica B non posso proporre una soluzione che è A più B e che dà A B perché questa è una soluzione ovvia senza altezza inventiva non c'è quel quid quell'eureca che fa dire ho cambiato la risposta a A più B allora se il mio esaminatore capisce che la soluzione che io propongo è A più B A B mi dice non nessuna altezza inventiva negativo questa è una soluzione ovvia chiunque esperto del ramo avrebbe proposto la tua soluzione a quel particolare problema il mio la mia soluzione deve essere sorprendente e infatti spesso nei testi dei brevetti ci sono queste paroline magiche che quando un ricercatore legge comincia a cancellarle sorprendentemente inaspettatamente lasciateli lasciateli perché testimoniano che se voi aveste fatto tutte le cose secondo quello che l'arte insegnava e la vostra esperienza insegnava quel risultato non l'avreste ottenuto quella soluzione non l'avreste proposta invece siete andati contro la conoscenza di quel momento vi faccio un esempio reazione di PCR cosa conferisce specificità a una reazione di PCR se io voglio amplificare la qualunque tengo bassi due parametri almeno la temperatura di annealing ok di estensione e l'elongation time c'è un'altra cosa che aumenta allora sono tre il numero di cicli anche i sali la concentrazione dei sali più alta è la concentrazione del sale in una reazione di PCR più alta è la specificità ok quindi se voi in una particolare invenzione proponete ho aumentato la temperatura di annealing ho aumentato la concentrazione dei sali di magnesio so what non ho fatto nulla di particolare il contrario è se abbassando la temperatura o diminuendo i sali di magnesio io ottengo un risultato che è più specifico è sorprendente perché nessuno esperto nel ramo avrebbe mai pensato di abbassare questi due parametri ed ottenere un risultato più specifico questo è un caso pratico che ho avuto con un'invenzione di uno dei miei ricercatori che però aveva buttato nel cestino tutti quegli esperimenti fatti secondo la logica o dei primer nuovi che identificano una mutazione puntiforme vado ad aumentare la temperatura e il magnesio perché così facendo rimangono appaiati solo quegli oligo che effettivamente non hanno o hanno non mi ricordo hanno la mutazione non funzionava non si otteneva nulla cestino 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 poi probabilmente come spesso capita per errore però questo non l'abbiamo scritto nel brevetto è stata una soluzione pensata ha abbassato la temperatura di annini sorprendentemente il risultato è venuto fuori è stato poi complicato di scrivere appunto perché non c'erano più in gel con la temperatura molto alta e quindi poi li abbiamo ripetuti però sarebbe stato meglio già includerli nella descrizione dicendo signori l'arte ci insegna a fare così noi sorprendentemente facendo una cosa contro ciò che insegna l'arte abbiamo ottenuto il risultato sorprendente in attesa è una cosa che dipende da una persona qualora il mio brevetto venisse rigettato perché l'esaminatore la ritenga una soluzione ovvia posso chiedere che venga esaminato da qualche di un altro questo è il problema questo è un criterio soggettivo bisogna incrociare le dita e così come per i referi dei paper trovi l'amico che insomma comprende ma trovi anche il competitor però a volte puoi chiedere magari all'editor di dire guardi questo reviewer però degli interessi lo escludo no qui non si può fare bisogna solo sperare e incrociare le dita e devo dire che ahimè purtroppo qual è il problema reale è che gli esaminatori nel primo giro di esame inseriscono delle parole chiave e identificano dei documenti e non sempre leggono tutto il documento e quindi ti citano degli argomenti che poi risultano causano la non inventività dicendo ma non hai inventato niente c'è questo documento che sta a evidenza e descrive quello e allora tu devi avere molta pazienza cominciare a spiegare che quel documento è grazie per avercelo identificato è sicuramente un punto importante nella letteratura ma non c'entra niente con quello che è la mia invenzione e quindi purtroppo però a differenza del reviewer del paper dove puoi chiedere no, sì, meglio non si può esprimere nessuna preferenza quindi ecco il problema è soggettivo se sei fortunato fai un po' meno fatica se invece e ci sono dei referì che non cambiano idea per preso partito gli puoi anche dire guarda stai parlando di mele ti ho descritto una pera no, non esiste io sono il referì e quindi io ho ragione prima parlavi di aumentare la temperatura abbassare la temperatura in questo tipologia di brevetti vanno segnati puntualmente i gradi e le condizioni di lavoro o semplicemente aumentare abbassare questo è un ottimo punto grazie lo dico perché invece nei brevetti in cui va protetto un dispositivo io non vado a mettere che è lungo 3 centimetri o 5 centimetri mi metto L in maniera tale che posso giocare un po' su questa cosa ottima osservazione grazie questa è una grande distinzione tra brevetti di dispositivi medicali barra meccanici perché poi rientrano in questo e quindi in un dispositivo medicale barra brevetto meccanico la lunghezza il materiale con cui è costituito il colore non costituiscono elemento inventivo e distintivo è tutto molto generico in ambito invece biomedico il famoso protocollo costituisce elemento distintivo tant'è vero che si indicano i cosiddetti range ok da a e questo è un range da 45 gradi a 75 gradi vuol dire che io copro tutto quello che è il protocollo realizzato in questo ambito poi l'esaminatore mette virgola preferibilmente 45 55 molto più preferibilmente 45 50 ancora più preferibilmente 48 si capisce che la temperatura giusta a cui devi fare l'esperimento è 48 ma se tu la realizzi per qualche strana coincidenza in una range che va da 45 a 75 sei comunque protetto se qualcuno se qualcuno la realizza a 40 gradi tu sei fuori dalla protezione quindi ecco una differenza molto importante che il collega ha evidenziato dipende dalla tipologia di invenzione ultima caratteristica applicabilità industriale la nostra invenzione deve poter essere prodotta e commercializzata altrimenti non può essere tutelata il motto perpetuo di Leonardo al di là di una legge fisica non avrebbe potuto essere brevettato anche perché carente di applicabilità industriale non esiste un prodotto sul motto perpetuo quindi questa è una caratteristica ecco che quindi spesso si inseriscono in molti brevetti i famosi kit il kit serve per rendere un prodotto un'invenzione un prodotto commercializzabile e realizzabile e distribuibile lo dicevamo la descrizione di un'invenzione è un elemento distintivo che deve essere ottemperato con massima cura se la descrizione non è sufficiente il brevetto può essere revocato e come si fa per i campioni biologici che sono utilizzati per realizzare l'invenzione o che sono oggetto dell'invenzione per definizione un campione biologico è quanto di più variabile possibile ecco che allora esiste una regola ben descritta con il trattato di budapest che impone che qualora una domanda di brevetto preveda l'utilizzo o comprenda un materiale biologico prima del deposito della domanda di brevetto il materiale biologico deve essere depositato presso una banca così definita repository for patent invention ok ne esistono tante la nostra italiana è a Genova ha chiuso l'hanno riaperta adesso funziona è viva ce ne esiste una in Germania sono molte si paga il deposito del nostro campione si riceve il campione viene conservato per vent'anni e si riceve in cambio un numerino che è il numerino di deposito che deve essere inserito dentro la domanda di brevetto allora qui si aprono le domande di solito più incredibili anticipo io ma se il mio materiale biologico è disponibile in una banca di brevetti il mio competitor può andarlo a richiedere? Tecnicamente sì tecnicamente sì altre idee? Ci sarà un limite di tempo? Siamo vicini siamo vicini vicini altre idee? deve chiedere l'autorizzazione alla banca la banca mi segnala la richiesta e io posso autorizzare la concessione o no ma soprattutto la richiesta deve essere relativa a un uso per scopo di ricerca quindi non per scopo commerciale questo è uno dei cruci per esempio il miglior batterio il ceppo batterico che produce quella particolare proteina perché la devo depositare poi tutti la utilizzano e quindi deposito veramente il mio miglior ceppo o uno che non è tanto buono che però se qualcuno deve qui è sulla buona fede ovviamente però anche se viene richiesto il miglior ceppo che ho depositato non lo posso usare per scopi commerciali lo posso utilizzare caratterizzare per scopi di ricerca ma non lo userò mai quindi il competitor effettivamente non ne ha un vantaggio commerciale ma soprattutto io vengo a conoscenza perché la banca mi segnala la richiesta e io l'autorizzo stiamo parlando di materiale microorganismo sì anche linee cellulare la linea cellulare certo anche la linea cellulare eccome no un'ips ricondizionata che ha delle particolari proprietà cellule isolate dal paziente bravo è proprio qui cellule isolate dal paziente certo le devi depositare se le includi in un brevetto ma devi avere il consenso informato del brevetto del paziente altrimenti non lo puoi utilizzare ecco perché all'inizio vi ho detto bisogna avere chiaro che cosa voglio fare dei miei risultati perché se io prendo cellula staminale mesenchimale del paziente la ricondiziono con la tecnica IPS questa cellula ricondizionata ha delle particolari funzioni secerne degli esosomi gli esosomi hanno delle grandi capacità antinfiammatorie per poter descrivere gli esosomi devo depositare la linea cellulare da cui ottengo gli esosomi se è da paziente io devo avere il consenso informato del paziente che me l'ha donata ma il consenso informato sostanto della donazione del tessuto di voto ad esempio solo di quello certo quindi io dopo cerco di fare quello che voglio no il consenso informato prevede in tempo limite no un uso una volta c'era il cosiddetto broad informat consent adesso non è più io non lo so al monzino non l'ho detto non l'ho sentito no non credo comunque se posso dire scusami non credo non credo perché non si può fare il dpo su questo è veramente severo conosco il dpo del monzino per i progetti che abbiamo non esiste neanche lì un broad consent è un consenso che deve essere relativo al progetto si enfatizza diciamo così per scopi di ricerca correlati alla tematica per cui il campione è stato raccolto non l'ho messa la diapositiva del provvizional perché mi sembrava sì anche per il provvizional e questo è un'ottima domanda ti ringrazio perché il provvizional è quella soluzione che cos'è una provvizional domani il mio ricercatore presenta i dati a un convegno cosa faccio prendo tutto questo materiale lo deposito come domanda provvizional ok il provvizional ti conferisce una data di priorità ma tutto quello che è contenuto è l'unica materia su cui puoi scrivere una vera domanda di brevetto non puoi aggiungere materia a quello che è contenuto nel provvizional e quindi se tu non hai il deposito della linea cellulare poi non potrai descrivere sufficientemente la tua invenzione perché dopo non essendo contenuta nel provvizional non la puoi aggiungere e materia aggiunta siamo tra di noi puoi fare la domanda quanto tempo ci vuole per depositare perché domani lo voglio depositare ma mi sa che è dopo domani la questione non è il deposito la questione è avere la sufficiente quantità di campioni che devi mandare alla banca sono 12 provette che devono contenere se non sbaglio 5 milioni di cellule a ciascuna provetta e quindi è un problema di amplificazione se hai una cellula primaria ti ci vorrà un po' più di tempo se hai una cellula invece ho dovuto fare il corso non serve a niente questo come devo andare via perché ho capito che non posso più depositare breve ma no anzi anzi importante è un passaggio allora io non sto raccontando nulla di sono 12 vials 12 vials eh sì eh sì ho immortalizzata che quindi ha un ciclo con i campioni che ha utilizzato cioè ecco con i campioni allora il campione deve essere oggetto di una delle mie rivendicazioni o deve essere la fonte sorgente o che genera il prodotto da cui io su cui io brevetto ti faccio l'esempio delle vescicole testo un farmaco sì vedo che funziona sì devo mettere le cellule con cui ho fatto gli esperimenti il mio Nd5 6 eccetera se sono linee che hai comprato dalla TCC no se sono delle tue linee interne le descriverai ma sono delle linee routine ok cellule isolate a paziente questa è una questione da sollevare col consulente brevettuale perché o tu hai un dato che dimostra te l'ha detto no eh però allora probabilmente adesso io non conosco tutti i dettagli della tua invenzione se il consulente non te l'ha detto evidentemente avrà allora purtroppo il brevetto è un testo legale e come legalese brevettese ci sono delle formulazioni che consentono diciamo così di esprimere alcuni concetti e quindi anche eventualmente bypassare questo tu fai finta di niente e prova a chiedere se allora se perché quelle linee cellulari che tu hai usato in realtà sono quelle su cui tu hai testato la rivendicazione che quel farmaco ha quegli specifici effetti e sarà molto bravo il tuo il tuo il tuo consulente brevettuale nello scrivere le rivendicazioni se non hai se non è necessario depositare di solito quando è così c'è anche il campione negativo che dice che su cellule non di quel paziente quel farmaco non funziona oppure su quelle cellule c'è il farmaco che si usava prima o che non si usava per dire vedi quello non funziona il mio funziona se non sono cellule disponibili ma per prudenza si deposiano però se lui sono bravi ormai i consulenti brevettuali quindi sanno il loro mestiere io mi fiderei di loro se vuoi essere diciamo attento magari la domanda falla però quindi io sarei più preoccupato di un provisional che non di una domanda di brevetto scritto da un consulente perché il provisional è a sac lo mando lo deposito ho una data di priorità quando poi vado entro l'anno 12 mesi dura il provisional se no decade il mio diritto devo poi scrivere la vera domanda di brevetto e tutto quello che c'è nel mio provisional lo posso descrivere quello che non c'è non lo posso aggiungere perché costituisce materia aggiunta ecco perché il provisional non li amo particolarmente e non vi ho dato l'opportunità di conoscerli perché il ricercatore non deve sapere che c'è una via d'uscita il provisional negativo così come il ricercatore non deve sapere che ci esiste il grace period che cos'è il grace period quell'anno di grazia che vale solo negli Stati Uniti Giappone e Australia in Giappone sei mesi e Australia è un anno mi sembra Stati Uniti decisamente un anno entro quale anno di grazia entro quale è possibile comunque depositare anche l'invenzione la domanda di brevetto che è stata descritta accidentalmente in qualche convegno pubblicata in un paper 12 mesi solo in quei paesi nel resto del mondo ovviamente si perde la tutela ma almeno negli Stati Uniti Giappone e Australia può essere conservata ma io non ve l'ho detto perché se no i vostri uffici di trasferimento tecnologico mi sgridano allora riassumendo velocemente che cosa non si può ovviamente tutelare l'abbiamo detto le scoperte le teorie i metodi i metodi i metodi matematici i trattamenti medici questo in Europa negli Stati Uniti per esempio il trattamento medico può essere tutelato tutta la parte di creazione artistica letteraria musica perché viene tutelata col copyright e non con il bravetto i metodi di gioco di scommessa le soluzioni economiche questo non può essere e per quanto riguarda i software li possiamo brevettuare o no? sì ci sono le licenze che cos'è la licenza? bravo è una licenza? la licenza è una specie di documento no ha un aggettivo apparente non è un aggettivo è un complemento di modo credo vabbè che memoria è tipo un diritto all'usabilità sì ma non è una licenza è una licenza d'uso sì è una licenza d'uso esatto è una licenza d'uso che viene concessa quando tu paghi per poter installare un particolare sì ma perché una licenza d'uso di che cosa? di un brevetto o di qualcos'altro? credo del codice che è contenuto all'interno di quel software che può essere per esempio inserito in un altro metodo o usato per un determinato scopo ma a seconda della licenza non può essere per esempio modificato oppure va richiesta l'autorizzazione per essere copiato eccetera ok ci siamo quasi allora la licenza d'uso viene concessa su un copyright ok e tu hai la possibilità di utilizzare uso quel codice sorgente as such così com'è dentro il tuo contratto ci sarà scritto se lo puoi utilizzare modificare riprodurre in parte modificato implementare eccetera eccetera ok quello però è una licenza d'uso su un copyright quando il software viene inserito dentro una domanda di brevetto è un elemento tecnico che serve per la realizzazione dell'invenzione siccome l'algoritmo può variare l'inserimento di un codice sorgente dentro un brevetto è sempre un'attività molto rischiosa è preferibile la protezione tramite un copyright nel momento in cui cambio il mio codice sorgente rideposito un altro copyright quindi tengo aggiornato la fotografia di famiglia perché io la protezione ce l'ho in quel momento preciso lo vedremo è a sac in quel momento se cambio qualcosa cambia sono fuori protezione certo ci sono ad esempio protocolli di sintesi o protocolli di selezione che possono essere specifici vengono considerati come metodi metodo di trattamento medicale o di diagnosi questa è una domanda molto puntuale che hai fatto il confine è labile è proibito proteggere qualunque invenzione che sia un metodo di trattamento questo per la libertà di cura che i medici devono poter ottemperare questo in Europa negli Stati Uniti invece si può depositare e quindi c'è tutto un fraseggio che viene utilizzato nella scrittura delle rivendicazioni di un brevetto che mi consente di non cadere dentro questa protezione perché io non posso proteggere un metodo di trattamento posso però proteggere un metodo di sintesi o un metodo di centrifugazione o un metodo di gli altri metodi invece una domanda proprio consiglio quanto conviene patentare e quanto invece conviene magari rimanere un po' più sul segreto e proteggere magari i campioni attraverso MTA tra università o con aziende con il quale uno prende accordi ottimo anche questa domanda è una strategia il brevetto però è un diritto che ti viene concesso e riconosciuto e che puoi azionare nel caso in cui qualcuno senza la tua autorizzazione utilizzi la tua invenzione l'MTE devi avere un buono standard di accordo da far sottoscrivere e qui vi allerto consultate sempre gli uffici di trasferimento tecnologico perché spesso e volentieri arrivano da istituti esterni MTA capestri dove sono scritti ovviamente in legalese e quello che di solito soprattutto le università americane che ormai hanno uniformato i loro documenti e usano tutti lo stesso modello quindi letto una volta siamo attenzionati per le volte successive spesso e volentieri dentro c'è scritto che tu trasferisci il campione e conferisci anche il diritto di uso modifica risultati materiali nuovi brevettabili che derivano da quel campione non sono sicura che questo sia quello che tu vuoi quindi sicuramente l'MTE protegge però deve essere letto dal vostro ufficio dal legale del vostro istituto e attenzionato soprattutto sulla parte di modifiche e uso del campione che viene trasferito ecco perché chiedo sempre ai miei ricercatori vi prego descrivetevi il campione è un vettore datemi la mappa del vettore perché io su quello poi scrivo l'articolo che dice non puoi riprodurre utilizzare in parte o tutto qualsiasi componente del mio plasmide che ti ho inviato stessa cosa per le cellule campione di sangue inoltre sul trasferimento di campioni è relativo a quel materiale trasferito e quindi è una protezione un po' un po' limitata certo invece sui software in particolare le app sì allora se le app utilizzano determinate tecniche ad esempio speech recognition eccetera per far fare delle cose ai pazienti si può quindi creare un prodotto commercializzabile come si mettono insieme le due cose di impossibilità di questa è una domanda che va dritta al mio cuore perché come biologo ho fatto molta fatica a rispondere alle stesse domande dei miei ricercatori dunque l'app è qui se c'è qualche informatico eccetera l'app che cos'è è un codice sorgente che gira su un telefonino o su un dispositivo elettronico ok quindi non è nient'altro che una versione più fruibile di un algoritmo qui vi allerto su due cose gli universitari sono avvantaggiati dal fatto che internamente hanno dei dipartimenti di informatica quindi spesso e volentieri vanno dal collega e gli dicono scusa senti io avrei bisogno di un codice che mi fa esattamente questo e quindi è un'attività interna all'istituto in un ospedale queste competenze non ci sono quindi che cosa contatti una software house gli dici io voglio esattamente fare questo e ho bisogno di un'attività di questo tipo mi scrivi mi produce una app mi fai questo servizio nei contratti di servizio spesso si è scritto che la app è di proprietà della software house questo è il primo grande problema secondo problema bisogna capire come è stato realizzato il codice sorgente se con open source code e quindi bisogna andare a capire nelle regole dell'open source che cosa puoi utilizzare di quell'open source e come lo puoi utilizzare è un mondo bello complesso non mi muovo con facilità devo dire l'unica cosa che vi dico fate attenzione perché se usate dei creative commons avete delle regole intrinseche se invece usate dei codici sorgenti vostri dei linguaggi vostri avete delle libertà è chiaro che o sei un informatico o altrimenti per ottenere il risultato che tu vuoi usi quello che c'è già disponibile sicuramente molto importante verificare quello che puoi utilizzare come puoi utilizzare il linguaggio che hai usato nello scrivere il tuo il tuo algoritmo e chi l'ha scritto perché quelli loro sono in realtà i detentori del diritto d'autore quindi non è neanche il uso che cambia cioè se l'algoritmo è quello perché fa fa diverse cose però io cambio l'applicazione cioè quell'algoritmo quell'algoritmo lo uso per fare un'altra cosa rispetto allora questo è un altro questo è un'altra componente l'algoritmo in quanto tale viene protetto con un copyright se quello algoritmo serve per un uso diagnosticare non lo so la sensibilità oppure la possibilità di avere una certa patologia o la necessità di essere trattati con una concentrazione di farmaco allora lì c'è un momento di riflessione sul fatto che questo uso specifico possa essere in realtà brevettato e comprendere il codice sorgente dalla mia esperienza quello che ti posso dire è poiché queste necessità sono abbastanza mutevoli e spesso istituto dipendente a meno che non sia tutta la società di ematologia che decida che invece è proprio quella la necessità costi e benefici di un brevetto per una software rispetto a un deposito di copyright sono più sbilanciati verso il deposito di copyright e anche per il discorso del linguaggio che viene utilizzato per realizzare quel determinato codice sorgente diciamo sviluppo un metodo però è già stato riportato che magari non so quella colonna d'affinità si può usare se io creo un kit specifico però ottimizzato posso brevettarlo o poiché l'idea non è completamente nuova ricade nella casistica del ovvio un esperto del ramo lo riterrebbe ovvio ok però colgo questo esempio perché spesso e volentieri parlando di invenzioni biomedicali si utilizza la colonna commerciale si utilizza il terreno di cultura commerciale si utilizza la domanda che i ricercatori spesso mi fanno è ma nella mia descrizione dell'invenzione posso scrivere che ho usato la colonna numero pinco pallo adesso non so della Fisher piuttosto che il terreno di cultura della Sigma con numero di catalogo posso devi scriverlo perché fa parte della sufficiente descrizione ok quindi il mettere insieme però se non ha apportato una soluzione tecnica migliorativa e sorprendente il mettere insieme elementi già disponibili potrebbe non essere riconosciuta inventiva dall'esaminatore diciamo scusi l'ignoranza quando compriamo un prodotto per esempio una colonna di purificazione un kit anche quelli sono veramente un po' hobby nel senso che sono ottimizzazioni quelle cose sono sempre coperte da brevetto o no come funziona allora spesso e volentieri vi farò poi un esempio per esempio delle prime colonne di purificazione del DNA quanti di voi l'hanno usata forse io sono un po' vecchiotta a quel tempo usava solo solo quella ditta poteva poteva ti vendeva le colonnine per purificare KIAGEN siamo della stessa era oggi purificazione di DNA colonnine sigma fischer insomma ce n'è non è più solo se non è purificato con KIAGEN non è vero DNA quindi insomma ma perché è scaduto il brevetto di KIAGEN oppure perché tutte e due perché è scaduto il brevetto di KIAGEN o se probabilmente non è tutto il brevetto di KIAGEN perché allora io vi posso dire questo è un cellulare sapete quanti brevetti ci sono qui dentro più di un milione ok è chiaro che non tutti hanno le licenze le cross licenze per utilizzare brevetti altrui perché non sono brevetti di casa madre allora su alcuni componenti si chiude un occhio io violo il tuo brevetto tu violi il mio uno pari palla al centro va bene così su componenti come la colonnina di KIAGEN probabilmente c'era più di un brevetto e probabilmente quello strategico che faceva la differenza è scaduto e quindi si sono aperte le porte al mercato per tutti gli altri produttori quindi per ritornare io posso usare vi faccio l'esempio abbiamo abbiamo brevettato un metodo di cultura di cellule endoteliali e di podociti ok cellule primarie come faccio a mettere in contatto due linee cellulare ho bisogno di un transwell il transwell lo producono ed è commerciale non vado ad inventarmi un transwell nella domanda di brevetto abbiamo scritto chiaramente poiché quello è un prodotto commerciale io lo posso acquistare che ho usato il transwell non mi ricordo di che cosa numero catalogo con questi pori con questa membrana di questo materiale uso un prodotto commerciale lo cito ma poiché è commerciale posso acquistarlo e la stessa cosa sono i terreni di cultura le colonnine ma se per esempio utilizzo questo transwell per fare drug screening e faccio non so un'altezza particolare del well o quello è brevettabile anche se già si però quello quello è un metodo ok non è un prodotto adesso vedremo come le grandi categorie di un brevetto anzi devo anche un po' correre ecco che cosa proteggiamo ci sono ambiti di protezione diversi e perché ve li ho elencati perché ognuno e ho lasciato fuori la parte meccanica e la parte ingegneristica elettronica e perché sono altra materia in ambito biomedicale queste sono le grosse categorie i pharma i dispositivi medicali kit diagnostici e strumenti di ricerca ok all'interno di queste grosse categorie io posso brevettare il prodotto e questo è un brevetto forte di prodotto o un prodotto è caratterizzabile identificabile chiaramente posso scusate sono andata troppo veloce posso avere un metodo metodo di purificazione metodo di crescita metodo di separazione metodo di quello è un brevetto è un po' più debole rispetto a un brevetto di prodotto perché se io cambio alcuni elementi del mio metodo esco fuori dai range che ho descritto preferibilmente da A sono fuori dall'ambito di protezione poi abbiamo una tipologia intermedia che viene definita product by process siccome non riesco a definire il prodotto lo definisco attraverso il metodo con cui lo produco esempio di brevetto product by process la prima eritropogliettina ricombinante era semplicemente un product by process molto meno forte di un prodotto ma comunque di grande successo metodo uso uso di un prodotto che già esiste ma con un nuovo uso chiamato anche repurposing o secondo uso per i farmaci molto interessante da attenzionare soprattutto se il brevetto madre è scaduto abbiamo accennato la possibilità anche di proteggere database prodotti di intelligenza artificiale software e app facciamo un esempio allora questo è un esempio molto generico forse un po' datato come tecnica scusate sono familiare agli ibridomi so che oggi gli anticorpi non si producono quasi più con ibridomi ma è una vecchia tecnica posso proteggere un anticorpo che ho creato attraverso un ibridoma l'ibridoma in quanto tale lo posso brevettare no riformano scusate la domanda è posso brevettare l'anticorpo prodotto dal dal ibridoma punto no sì no a such no perché la produzione di anticorpi per ibridoma è una tecnica conosciuta quindi non ho fatto proprio nulla allora cominciamo ad aggiungere cominciamo ad aggiungere degli elementi posso brevettare sicuramente l'ibridoma perché lo deposito e quindi è compreso nella materia che io proteggo ma poi vado a proteggere del mio anticorpo la struttura posso proteggere la sequenza specifica posso proteggere il confronto con la sequenza di altri anticorpi evidenziando perché il mio è sorprendentemente meglio e perché il mio è specifico per un uso posso brevettare tutelare la sequenza di legame quindi attenzione perché è importante avere in mente fin da prima che cosa voglio fare dei miei risultati perché tutti questi dati vanno prodotti se io voglio avere una tutela e non dico che si deve parlare già col consulente brevettuale all'inizio di un progetto però avere una vaga idea questo sì ecco perché vi dico leggete i brevetti che sono disponibili su argomenti simili su prodotti simili su tematiche perché vi fate un'idea di che cosa quello che io dico al ricercatore è se tu vuoi brevettare mi devi dare gli stessi dati che useresti per un lavoro scientifico più un pezzettino ok se tu quando corri un gel quando pensi a un campione ai campioni che devi utilizzare per un particolare esperimento aggiungi un lane non hai tanto lavoro in più per il paper non ti serve non lo inquadri quel risultato mettilo ai lati nel tuo gel mettila perché per il paper non ti serve no ti serve il brevetto raccogli tutto il dato ce l'hai già se tu non lo fai ritornare indietro vuol dire ripetere lo stesso esperimento quindi costi tempo e spesso se è un campione biologico di paziente posso anche non avere più il campione da utilizzare ho perso un'opportunità non so se ho ma che quando lo stesso esempio teoricamente posso brevettare un primer per vedere una specifica sequenza di DNA tumorale per biopsia liquida perché quel primer l'ho disegnato io però tu non stai brevettando un primer mi hai già detto un sacco di cose cioè sto brevettando una tecnica no neanche no un metodo è l'uso di quel primer che viene utilizzato nel riconoscimento del DNA urale per biopsia liquida quindi devo fare tutte queste cose e dovrai dimostrare che quel primer è meglio di un altro primer qualsiasi cioè se mi dovessi trovare una situazione del genere nella mia vita non dovrei brevettare questa cosa certo che si può fare ma non brevetti il primer a sacco cioè non brevetti la sequenza ok è il motivo per cui non si perché quello a parte il fatto che è stato sintetizzato ma è una sequenza che esiste già in natura però vedi che c'è già tutto un percorso e quindi non dirai solo quella sequenza appunto dirai quella sequenza che è stata identificata perché ha questi criteri e che funziona utilizzando una certa particolare condizione di PCR dovrai descrivere il range mentre un qualsiasi altro primer che non stato identificato è certo bravo guarda tu mi fai felice ma non vuol dire che no no ma perché non è vero nel Monsino c'è un ottimo ufficio di trasferimento tecnologico e secondo me si tratta solo di allenare allenare la mente no adesso il prossimo brevetto dai sei pronto per il prossimo brevetto no però guardate è semplicemente lo so che visto è provocativo quello che vi sto dicendo ma fa la differenza un project management che fin dall'inizio prevede il brevetto utilizzato per tutelare il tuo lavoro perché alla fine io credo che ieri il professor Pietrabissa ve l'abbia detto non è una questione di voglio diventare milionario e comprarmi la Lamborghini con il mio brevetto voglio in teoria poter controllare tutto il lavoro il grande investimento che il pubblico fa su dei prodotti che solo il pubblico può scommettere come diciamo così rischio beneficio e quindi è una tutela nei confronti del lavoro e dell'esperienza di un particolare istituto gruppo di ricerca su quel particolare prodotto poi per assurdo posso anche concedere una licenza gratuita cioè in tasca non mi viene nulla ma sono io che ho il controllo della tecnologia ok quindi l'associare in ambito diciamo così di ricerca il puro fine commerciale è un po' limitativo certo se poi quello c'è nessuno si lamenta ma in realtà l'obiettivo principe è poter controllare il proprio lavoro i risultati e l'esperienza cioè dare un valore a quello che si fa perché se io non lo tutelo in realtà ho due diapositive che ti dimostrano di no e mi metto il cappello da legale io sono fermo da un punto di vista di pubblicazioni io sono ricercatore e vengono fatte per quello dal 2007 allora adesso questo tema lo affrontiamo questo tema lo affrontiamo abbiamo un imprenditore che ci vuole dire qualcosa d'accordo? quindi questo sarà uno degli argomenti assolutamente d'accordo li ho messe questi diapositivi lo sapevo che finivamo qua non avevo dubbi no vabbè ma è perché le regole del gioco sono queste vieni valutato vostro onore dissento no non è così no nel senso ma a un qualsiasi colloquio per RTDA segno di ricerca e quant'altro il punteggio dato al brevetto è un centesimo rispetto al punteggio dato a un articolo scientifico quindi un ricercatore che vuole fare carriera ricerca come ha detto lei non per forza per far soldi col brevetto no sono d'accordo questo è un altro però unico discorso e hai bisogno quindi di certi numeri H index il brevetto non viene minimamente conteggiato è forse un di più se arrivi a pari merito ma se ti concentri sui brevetti devi tralasciare l'avete detto perché lui ha la capacità di cambiare queste cose io devo solo convincervi che non è non ci non perdete tempo nel depositare un brevetto purtroppo sulle valutazioni questo è ancora un paese che può migliorare non c'è proprio discussione è così perché ad oggi si viene classificati così sono d'accordo questo però è diverso da quello che diceva il suo collega che se voglio brevettare perdo tempo non pubblico eccetera eccetera sono due due tematiche diverse su quello che ha detto lei andava raccontato ieri al rettore Pietra Bissa che sta facendo un bel lavoro su questo su questo tema e invece ti dimostrerò che brevettare e pubblicare non sono così in antitesi ci sono fondi che possono bloccare il processo di organizzazione perché ci sono fondi che magari ti obbligano a pubblicare in open access ad esempio perché deve essere tutto available perché sono pubblici questo è un altro bel punto brava ci sono fondi che invece possono bloccarti il processo di brevetto di brevetto assolutamente un ottimo punto lo riprendevo alla fine ma non possiamo discutere qui attenzione tutti i contratti di consortium agreement grant agreement di charity piuttosto che di fondi pubblici hanno le clausole di proprietà intellettuale e hanno le clausole di riservatezza e titolarità dei dati leggeteli prima di firmarli a parte che non li firmate voi ma il nostro legale rappresentante ci sono alcuni charity che impongono come controparte al finanziamento la titolarità dei risultati che voi ottenete va tenuto in conto quindi questo era oggetto appunto delle ultime diapositive ma possiamo anticiparlo velocemente qua quando poi voi depositate una domanda di brevetto la verifica è da fare che voi siate veramente i titolari e proprietari dei risultati che non li abbiate già ceduti a priori con il contratto di finanziamento che avete che avete sottoscritto questa responsabilità dell'ufficio di trasferimento vi indico non tocca a voi non tocca a voi verificare queste cose ma la due diligence su chi è proprietario dei risultati lo fa l'ufficio di solito grazie forse è stato un po' anche già toccato tutta adesso si va molto per esempio sulla politica del fair quindi l'accessibilità fare in modo che i dati siano pubblici accessibili è un po' cioè una scelta strategica che diciamo così è un po' contraria alla possibilità di tutelare e quindi di valorizzare attraverso gli strumenti della proprietà intellettuale il lavoro fatto eh sì 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 questo purtroppo sì una domanda magari su quelli che sono anche gli uffici di technology transfer nelle università ad esempio io come dottoranda in realtà la mia ricerca se frutta un patent è anche l'università che detiene cioè principalmente l'università che detiene il patent ma in questo caso io mi posso fidare dei technology assolutamente cosa vuole che le dica di no certo che le dica di sì no nel senso cosa succede e poi dopo cioè se l'università vede un quaderno e quella è la questione perché l'università si dice che si fa garante beh è un impegno è un impegno di legge poi dopo un anno no questo è diverso quello di cui tu mi stai parlando sono i regolamenti che ogni università adotta sulla ripartizione tra lo vedremo chi è l'inventore chi è il titolare eventuali proventi derivati dalla valorizzazione del dell'invenzione e costi sostenuti per il mantenimento la prosecuzione il mantenimento della domanda di brevetto sono concetti diverso allora ovviamente siamo dei professionisti e non raccontiamo favole ci sono i regolamenti noi adottiamo ogni università adotta un regolamento in materia di proprietà intellettuale di gestione della proprietà intellettuale e un regolamento per la creazione di imprese e spin off quelle sono le regole che in quel particolare istituto vengono utilizzate e a noi uffici non è dato altro che a ottemperare e mettere in pratica questi regolamenti che vengono adottati dall'istituto non è a nostro buon cuore che facciamo cosa non le facciamo seguiamo precise indicazioni quindi è importante avere dei regolamenti ormai credo che tutti gli istituti compresi gli IRCS hanno un regolamento quindi siamo va bene io se non ci sono altre domande proseguo entrando nello specifico della funzione di un anticorpo nella mia domanda di brevetto posso anche proteggere e descrivere l'efficacia le costanti di associazione di dissociazione posso proteggere un range di solubilità posso descrivere per quale uso tecniche di microscopia fluorescente piuttosto che di istologia insomma l'insieme della descrizione dell'applicazione e delle rivendicazioni di un di un'invenzione sono davvero tanta soprattutto nel nostro ambito di biotecnologie leggete un brevetto meccanico dopo 5 pagine 4 figure il brevetto è finito BioNTech 874 pagine i primi brevetti di biologia molecolare o di biologia cellulare c'erano pezzi di capitolo di Magnatis dentro perché con tanta enfasi si descriveva la tecnica eccetera eccetera quindi sono categorie molto differenti Repurposing eccolo qua molto interessante perché consente di proteggere un nuovo uso di un farmaco o di un composto già utilizzato per altre indicazioni questo è un esempio ma il Sidenafil che abbiamo citato prima è un altro esempio ce ne sono davvero tanti qual è la difficoltà che di solito l'uso principale è un blockbuster ha fatto fatturare milioni all'azienda farmaceutico magari il nostro secondo uso a parte il Sidenafil che è stato un caso fortunato o anche la cardiospirina sono degli usi che non consentono dei grossi interessi commerciali da parte dell'industria e quindi la difficoltà è poi riuscire a commercializzarli con il nuovo indicazione d'uso è anche vero che se esiste però già una farmaceutica che ha sul mercato quel particolare prodotto facilmente c'è la possibilità che sia interessata ad ampliare intanto è vero che Bayer ha distinto nella sua linea l'aspirina e la cardiospirina ok differiscono dal dosaggio e dall'indicazione d'uso essenzialmente però ecco attenzione anche a questi sono dei prodotti che vale la pena considerare nella tutela di un'invenzione allora l'abbiamo detto quindi riassumendo è un diritto negativo impedisce agli altri di fare produrre vendere la nostra invenzione è territoriale devo fare domanda in quel particolare stato ha una durata di 20 anni e soprattutto non è la garanzia che io possa attuare la mia invenzione per poter verificare che io posso realizzare la mia invenzione devo svolgere la cosiddetta freedom to opera libertà di attuazione dell'invenzione è un concetto un po' faticoso e allora si ottiene è necessario svolgere una ricerca brevettuale su quelle banche dati che vi ho indicato perché nel caso in cui vengano identificati elementi correlati al mio brevetto o la mia invenzione devo avere il permesso di poter realizzare di integrare nella realizzazione della mia invenzione quella parte che è tutelata da un soggetto terzo vorrei provare a esemplificare che cos'è una freedom to opera perché so che è un concetto non proprio banale però è un esempio semplice permettetemi la semplicità ma aiuta a comprendere poi il concetto più generale allora immaginiamo di tornare nell'era dei Flintstone quindi non esiste tutto quello che abbiamo attorno fuoco per scaldarsi e poi uno sgabello a tre piedi per sedersi esiste un problema questo strumento questo oggetto è instabile è scomodo e a volte se non ti siedi propriamente cadi quale soluzione posso proporre per risolvere aggiungo una gamba oggi è facile però la soluzione è aggiungo una gamba invento la sedia a quattro e a quattro gambe e visto che sono un bravo inventore aggiungo anche uno schienale per cui mi posso appoggiare è più difficile cadere dalla sedia insomma una serie di vantaggi io sono l'inventore che protegge questa sedia nelle rivendicazioni avrò un oggetto che ha quattro gambe che sulle quattro gambe sono poi appoggiato un sedile e anche aggiungo uno schienale il mio vicino di casa molto creativo decide che vuole utilizzare la sedia per dondolare ok e quindi che cosa fa aggiunge alla mia sedia due oggetti ricurvi sotto le quattro gambe con questo lui può sedersi e dondolare e quindi brevetta questa cosa quindi abbiamo inventore uno sedia inventore due sedia più bacchette ricurve che oggi noi chiameremo rocking chair sedia dondolo eccetera eccetera allora scriverà appunto delle rivendicazioni che dicono è una sedia con quattro gambe uno schienale e sotto le due sotto le quattro gambe sono state aggiunte delle asteri curve brevetto della sedia dondolo descritto così allora domandona domandona oh oh no aspetta c'è già la soluzione no no forno indietro domandona il mio inventore due può brevettare questa questa sedia dondolo così fatta chi dice sì chi dice no avvincono i sì e allora ho bisogno di un sì che mi dica perché si può brevettare ma può brevettare perché è diversa però non può farla poi perché c'è già un brevetto più generale che copre vabbè vabbè ha anticipato tutto però la domanda era se la può brevettare la domanda dopo era ma la può realizzare no non la può realizzare perché la sua sedia ad ondolo dipende dal brevetto della sedia dell'inventore 1 quindi la può brevettare perché nuova inventiva non esisteva e non è ovvia ok per poterla realizzare dovrà chiedere il permesso all'inventore 1 di realizzare la sedia con il suo brevetto a cui lui aggiunge le asteri curve e trasforma la sua invenzione in sedia ad ondolo sono riuscite si scusate è banale l'esempio però rende molto il concetto di che cosa posso tutelare che cosa posso realizzare ok una domanda illegalese facciamo finta che la prima cosa si chiama sedia la seconda non si chiama sedia ad ondolo e non descrive che riparte dalla sedia ma descrive un altro oggetto esattamente identico alla sedia magari con parole diverse rispetto al primo brevetto c'è qualcuno che controlla certo si chiama claim chart perché non useremo la descrizione sedia un brevetto se tu vai a leggere le rivendicazioni di un brevetto meccanico che descrive comunque un oggetto è descrittiva non usa una parola che ricomprende un concetto e quindi nella descrizione di quell'oggetto costituito da quattro gambe non ti dirà di legno o di metallo perché non importa se è di legno o di metallo gialla rossa o a fiorellini ma ti dirà quattro gambe orizzontali su cui sormontate da una base orizzontale no quattro gambe verticali scusate sormontate da una base orizzontale a cui si appoggia uno schienale quella descrizione che non è una sedia ma è una descrizione dovrà essere ripetuta nel brevetto della sedia ad ondolo e quindi che cosa fa l'avvocato quando verifica la violazione di un brevetto confronta le cosiddette rivendicazioni e la claim chart brevetto 1 brevetto 2 si dice guarda fino al brevetto 2 cioè fino alla claim 2 tu hai usato qualcosa che è anche descritto nell'altro brevetto quindi tu puoi avere il brevetto perché la tua soluzione è innovativa ma contiene un elemento che è già protetto dall'inventore 1 quindi si lo tuteli non lo realizzi a meno che l'inventore 1 non ti dia il permesso di realizzarlo attraverso una licenza d'uso e se l'inventore della sedia l'inventore 1 della sedia volesse realizzare la sedia ad ondolo lo può fare? deve sempre chiedere all'inventore 2 la possibilità di aggiungere alla sua sedia le due barre orizzontali ricurve per poter dondolare ok spesso queste situazioni si risolvono con le cosiddette cross licensing io do la licenza a te tu dai la licenza a me tutte e due andiamo sul mercato con una sedia ad ondolo ok questa è la soluzione l'inventore 1 può naturalmente produrre la sua sedia non può l'inventore 2 potrà produrre la sua sedia ad ondolo solo con il permesso della scusate c'è un errore dell'inventore 1 allo stesso modo no ho letto la lega sbagliata l'inventore 1 produce la sua sedia e produce la sedia ad ondolo con il brevetto dell'inventore 2 l'inventore 2 può brevettare la sua sedia ad ondolo ma può realizzarla solo con la licenza dell'inventore 1 questa è la freedom to operate non posso tutelare ma poi è diverso poterlo realizzare va bene allora che punto siamo e quanto zucchero avete allora mi fermerei no un attimo però questo è per chiudere la la provocazione del collega pubblicazione brevetto ok chi viene prima allora carriera lo sappiamo non abbiamo lì perdiamo in anticipo però è un'opportunità diversa a questo punto cioè di tutelare dare valore a quello che noi facciamo con un diritto legale che viene conferito che cosa contiene quali sono qual è la struttura di un lavoro scientifico quando scrivete un articolo che cosa scrivete una storia sì ma quali parti ha la storia abstract conclusione discussioni qualche figura qualche figura poi c'è sempre il modello di funzionamento della della perché sei bellino tutte queste cose bellissime con le molecoline mi piacciono sempre un sacco quindi referenze bibliografia ok e in un brevetto non so chi di voi l'ha scritto o non l'avete mai visto allora io ve la faccio breve queste sono la parte gli elementi i capitoli che dovete scrivere della vostra storia che raccontate in un paper in un brevetto sono esattamente gli stessi l'unica differenza non scriverete una discussione ma scriverete delle rivendicazioni quindi non è vero che io perdo tempo tra l'altro io il mio brevetto il mio paper lo scrivo in inglese l'inglese è un'ottima lingua che può essere utilizzata per depositare un brevetto anche italiano quindi lo sforzo è assolutamente identico in parallelo posso fare entrambe le attività è chiaro che nella scrittura del brevetto ci saranno quelle magiche paroline legalese sorprendentemente inaspettatamente preferibilmente eh che quando il ricercatore legge cancella dice questa roba qui è bruttissima da leggere io questa roba non la voglio nel mio brevetto è ciò che distingue il tuo testo di brevetto dal tuo testo scientifico ehm di conseguenza qual è la differenza temporale è una questione di tempo potete scrivere entrambi paper e brevetto l'unica accortezza è dovete depositare la domanda di brevetto prima della pubblicazione della vostra della vostra manoscritto e qui dico una cosa che come ufficio di trasferimento tecnologico non dovrei dire però ve lo dico da collega ricercatore quando voi mandate un manoscritto a una rivista non è che automaticamente vi viene pubblicato ok accettato allora tra il percorso della review le modifiche gli esperimenti aggiuntivi e poi forse finalmente viene pubblicato eh passa un numero di mesi significativo se tutto va bene minimo sei mesi ma proprio se tutto vi valisce ok minor review come si viene chiamato ok in questo arco di tempo tutto ciò che è contenuto nel vostro manoscritto è segreto quindi anche ammesso che il sacro fuoco della pubblicazione sia inestinguibile voi potreste mandare il manoscritto e contemporaneamente cominciare a scrivere il brevetto l'importante è che il vostro brevetto venga depositato prima della pubblicazione una volta era cartacea e ci dava un po' di agio adesso è online quindi fa testo il numero di pubblicazione la data di pubblicazione elettronica questo per dirvi cosa che neanche dovete fare veramente prima il deposito e poi mandare al reviewer in realtà sono attività che possono andare in parallelo perché spesso e volentieri poi il paper torna indietro mentre la mia data di deposito che si chiama data di priorità è l'elemento che io voglio acquisire per mettere in salvo la novità della mia invenzione e con questo vostro onore concludo nel senso che non sono contrastanti e non si perde tempo tra pubblicazione e brevetto si tratta di pensarci semplicemente è chiaro che perdo tempo se devo andare a recuperare o rifare un esperimento magari un paper che non è stato preliminare allora dettagliatamente descrivere ma almeno un esempio ok beh ma io non credo che tu riesca a pubblicare un paper al giorno d'oggi quando se non hai significativi dati da proporre poi è quello che dicevo nel senso che lo che intendevo io è questo la differenza cioè la differenza ciò che mi taglio i piedi legami tra il deposito del brevetto e il deposito che ho scritto per arrivare a dei dati significativi pubblicabili e brevettabili passa così tanto tempo che io potrei in una conferenza piccola grande di sì a dire in vitro ho visto che la mia collega questo fa parte del self assessment che diceva il collega cioè devo dare evidenza che nel frattempo sto facendo cose se no non mi rinnovano la borsa ho capito a me che vanno nei congressi solo se mi accettano l'astrath non farò vita congressuale per chi non sto facendo dal 2000 e rotti ho fatto pure vita congressuale e ho fatto un paio l'art eh lo so quindi vedi che ricadi in quello che descrivevo io prima allora in un contesto di ricerca industriale questo vita quotidiana in un contesto di ricerca accademica ospedaliera è un po' un controsenso per questo che vi dico pensate fin da subito perché allora allora se nel paper paradossalmente è la situazione opposta cioè per avere una buona pubblicazione devi produrre tanti dati ragazzi io ho la mia età ve lo dico ma quando io ho pubblicato il mio primo journal cell biology oggi con quello che ho pubblicato nel 1900 ci faccio probabilmente la prima esatto la prima figura ok non tutto un paper questo a dire che oggi è sempre più difficile produrre dati con un buon impact factor e che se una volta ti bastava produrre il topo transgenico e viva hai prodotto un topo transgenico lo descrive adesso devi dire quali sono le caratteristiche possibilmente isolare delle cellule dimostrare che c'è una quantità di lavoro quindi più andiamo avanti più i contenuti di un manoscritto di pregio con un buon impact factor sono il riassunto di tanti anni di lavoro che non è in realtà quello che richiede un brevetto perché 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 questa è una domanda quante invenzioni sono contenute in un brevetto una quindi in teoria è possibile che nel mio paper io descriva più di un'invenzione ma intanto ho incasellato e protetto quelle singole invenzioni però ci ho fatto un grafico il magnifico uno spostamento del development sul research quindi io la ricerca la faccio sulla mia cellulina io non ci metto tanto forse che la nostra con l'invito quindi che la scelera raccoglie le cellule del paziente e se però io devo fare un'applicazione anche forse un brevetto d'uso di un farmacodaisistente per una nuova patologia è andato il topo devo chiedere all'organizzazione del ministero riceverla metterci gli esperimenti per amministrare questo sì questo è il limite questo ci ho messo questo è il limite del biomedicale mi fa piacere che tu lo che tu lo racconti ho la diapositiva conclusiva che dice la teoria è molto semplice ho un problema do una soluzione la brevetto ho un prodotto e vado al mercato scordatevelo scordatevelo in life science scordatevelo nel biomedicale quello funziona ahimene i prodotti meccanici elettronici tempo dall'idea all'invenzione al mercato tre anni poi sei fuori sei vecchio pensate che cosa erano i nostri cellulari tre anni fa buttato via nel biomedicale dopo tre anni sei contento se hai superato la fase preclinica senza aver buttato via tutto quello che avevi pensato questo purtroppo questo fa parte del gioco che stiamo giocando in questo specifico settore è per questo che vi dico perché è importante fare un buon project management perché poi tornare indietro vuol dire perdere altro tempo se lavori su una malattia rara caspita lo voglio subito il consenso per fare un certo determinato numero di attività perché poi quanto tempo ci rimpiegherò ad ottenere o incontrare lo stesso paziente o a tornare indietro al paziente se è vivo per farmi dare queste autorizzazioni quindi è un po' come dire decidete subito se volete andare in montagna o al mare perché se andate in montagna dovete avere un certo tipo di attrezzatura se andate al mare e viceversa non salgo la montagna con le ciabattine infradito grazie no lo so di ricerche devo correre prima con l'ufficio brevettuale perché dovrei riposizzare che da quelli di apporto lo portare fuori i metodi applicazioni ricordi sì 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 guarda ed è devo tornare veramente indietro no quello che è già stato fatto voglio dire non lo riconsidererei ti direi guarda per le esperienze future forse un passaggio all'ufficio di brevetti è utile ed ecco perché io fui fui chiamata nel 2007 dal mio direttore scientifico in un momento in cui gli uffici di technology transfer erano fondati da avvocati lui mi disse io voglio qualcuno che si segga vicino al ricercatore guardi gel insieme a lui e gli dica guarda ma perché non ci hai messo questo perché non hai fatto questo un dialogo con un linguaggio simile poi ci sarà il momento in cui serve il legalese e andremo da un consulente legale dovremo scrivere un brevetto brevettese un consulente brevettuale ma il dialogo diretto con il ricercatore lo fa un ricercatore che quindi vizi e virtù e problematiche le ha vissute sulla propria pelle cioè io non ho mai brevettato se non dopo perché ho contribuito alla miglioria di alcune proposte ma come ricercatore vi dico ma manco manco sapevo lo confesso non mi vergogno di questo mai avrei pensato che i risultati potessero essere utili oltre che per una pubblicazione un convegno un abstract quelli che ti fotografano col tuo poster vicino che sei tanto contento adesso c'è questa awareness usatela perché è un valore aggiunto poi che sia realizzabile che venga utilizzata per la carriera non lo so non vi posso promettere cose che non sono però averne la consapevolezza noi stiamo faticosamente dopo 15 anni nel nostro ufficio presso il policlinico cominciando ad avere queste interazioni con i ricercatori che vengono e si fa una specie di roadmap allora tu questo come lo inquadri questo è un semplice preclinica no guarda questo in realtà è uno studio clinico osservazionale quindi prima di cominciare a fare dovrai ottenere tutte queste cose quando hai raccolto tutto questo allora cominci a pipettare altrimenti è una rincorsa è una rincorsa il protocollo bravissimo eh certamente sì eh certamente sì ma se non ho eh no è perché non hai il consenso perché non l'hai biobancato perché non era certo certamente è per questo che siccome è un percorso complesso pensiamoci prima poi lo attui o non lo attui ok questa è un'altra scelta però hai la consapevolezza di quello che devi avere con te quando cominci a lavorare una curiosità in ambito direttamente biomedico e tematico quanto è importante essere anche a conoscenza di quei situazioni sono tutti i cambiamenti di figli anche a livello dei processi dei figli basta pensare no questo questo è troppo però ma non è messo camminando tutti i processi dei figli con la messa al cominciare della molto fatta dei suoi tempi questo non si può a priori sapere questo direi che io vi posso solo dire che come ufficio di trasferimento tecnologico che contatta le aziende per valorizzare le vostre invenzioni se avessi mai proposto un prodotto farmaceutico da conservare a meno 125 gradi azoto o anche solo a meno 80 mi avrebbero detto toc toc trova un modo per renderlo disponibile sullo scaffale della farmacia a temperatura ambiente o ti presenti con questa formula o altrimenti hanno sdoganato nel giro di un mese e sono andati sold out tutti i frigoriferi meno 80 con dei costi di attrezzatura che erano impensabili ok cosa possiamo dire non possiamo prevedere il futuro a volte accadono cose che se foste venuti voi dicendo questo bellissimo però deve essere conservato al luogo del paziente a meno 125 vai e ti facevano l'elenco dei motivi per cui una temperatura di così bassa non poteva essere utilizzata per un prodotto commerciale c'è voluta una pandemia lo so brutto a dirsi però non si può prevedere ciò che domani sarà fattibile rispetto a quelle che sono le conoscenze di oggi ovviamente troppo scusate vai registro la tua domanda no non c'è però stanno costituendo un ufficio centrale a tutela di questo l'unica cosa che siamo stiamo cercando di attivare abbiamo attivato è una rete di uffici di trasferimento tecnologico degli IRCS perché degli IRCS e non delle università per tutti questi motivi che voi avete oggi sollevato e che l'ambito biomedicale ha delle peculiarità così specifiche rispetto all'università che dipende da un altro ministero quindi si spera che nel prossimo futuro l'ufficio venga strutturato c'è l'intenzione vediamo c'era il collega dietro scusa no no tu tu pensavo c'era fosse un altro no era anche lei alzata la mano no un esempio pratico alcuni kit diagnostici per esempio quelli di ricerca dei polimorfismi della NASH eccetera diciamo il risultato lo dà soltanto la ditta perché magari adopera un algoritmo segreto in questo caso l'algoritmo è semplicemente protetto da un copyright oppure c'è un brevetto segreto segreto industriale e quindi in questo caso conviene fare il segreto industriale non brevettare il kit perché voglio dire un competitor può anche produrre un kit molto simile ma tanto non ha l'algoritmo per darti il diciamo così il calcolarti il rischio di malattia insomma allora ci sono due problemi ovviamente il segreto industriale ha un valore se il segreto nel momento in cui qualcuno lecitamente o illecitamente divulga hai perso ogni tipo di tutela hai perso il valore perché qualcuno lo ha divulgato e quindi comunque è rischioso è rischioso però c'è un tassello che mi manca sì cioè poi come faccio io a dimostrare la validità dell'algoritmo se non l'ho pubblicato su Nature allora allora qui questo è un argomento molto importante che hai sollevato lo affronterei adesso quel tipo di analisi raramente ha una finalità diagnostica ok è una finalità statistica non ti dicono è certo che tu abbia questo tipo di malattia ti dicono è statisticamente alta la possibilità che tu sviluppi questa malattia perché su cosa si basa quell'algoritmo su machine learning più dati tu invii più l'azienda può migliorare la capacità predittiva di quell'algoritmo ed è il motivo per cui non lo proteggono perché è in continua evoluzione ma non ha scopi diagnostici ha solo scopi statistici di predizione occhio quindi non c'è un brevetto dietro comunque ci sarà probabilmente il brevetto sul kit cioè su quei particolari oligo che devi usare sulla soluzione di annealing su tanti questo è un campo che non affronterei perché possiamo dedicarci un'altra giornata e devo dire che non sono neanche la persona con le competenze giuste ma il machine learning in realtà è una cosa è un concetto diverso è un concetto diverso cioè la miglioria che viene la funzione di quello specifico algoritmo viene migliorata nel continuo confronto con i dati che acquisisce ok ecco perché molte aziende sono alla ricerca di dati perché in realtà li utilizzano come base per migliorare i propri prodotti soprattutto a livello di intelligenza artificiale la domanda è però quanto a quanti dati devi acquisire per far sì che il tuo errore sia ridotto al minimo poi dicevo e quindi scusa e adesso con il fatto che puoi acquistare i dati perché prima si diceva puoi gestire e scambiare e vendere dati anonimi ma non sono mai dati anonimi perché tu quando acquisisci quel dato da inserire sul tuo algoritmo per fare machine è già in una certa categoria di pazienti non vuoi il sano vuoi quello che almeno ha due genitori di cui uno è portatore sano di qualcuno non è più proprio una cosa anonima non si può infatti non si può fare ci vuole il consenso informato e questo ve lo dirà il professor granieri domani pomeriggio la differenza fondamentale tra dato e materiale io paziente posso donare e quindi trasferirne la titolarità il mio materiale biologico a un ospedale perché è lì che sono ricoverato non lo trasferirò mai a un'università quindi l'università non è titolare del materiale il dato il paziente non lo trasferisce mai non passa mai la titolarità di un dato dal paziente a un soggetto terzo lui ti dà l'autorizzazione a processare il suo dato per scopi ben precisi indicati nel consenso informato occhio questo è fondamentale e deve essere scritto nel consenso ecco perché vi dico occhio cosa volete fare del vostro progetto quali dati usate queste cose perché dovete averli a priori a monte certamente sì certamente sì poi che questo si faccia è tutto un altro discorso però dal punto di vista legale diciamo si può fare meglio sempre diciamo nel pratico se quindi per esempio la collega pubblica che i pazienti col tumore hanno questo particolare marker o questa sequenza di DNA circolante eccetera e io invece decido di usare quel marker per farci un kit posso a quel punto brevettare il mio kit che cosa brevetti l'utilizzo di quella molecola per fare una diagnosi se lui l'ha descritto ha descritto la sequenza e ha descritto l'uso di quella sequenza e l'ha pubblicata non sei più nuovo perché esiste un documento di priori che anticipa diciamo che se appunto una persona sta lavorando ricercando nuovi markers tiene i dati genera il kit diagnostico brevetta e poi successivamente fa la sperimentazione la pubblica allora hai affrontato varie fasi di un processo complesso e cioè identifichi i markers e li caratterizzerai primo brevetto poi di solito il consulente brevettuale ti scriverà una rivendicazione che dice uso di questi markers nel kit per eccetera eccetera non è detto che industrialmente tu devi già avere sul tuo bancone il kit pronto per essere messo a catalogo Fisher Sigma o qualcosa del genere ok prevedi il fatto che questi marker verranno utilizzati perché hai bisogno di un uso industriale ok e quindi confezioni un prodotto però prima di pubblicare il paper perché altrimenti il suo paper anticipa il tuo brevetto ma che io diciamo la concepisco in maniera sempre io come faccio cioè la collega potrebbe aver analizzato anche 100 pazienti ma poi alla fine per avere realmente una sensibilità una specificità di quel marker cioè bisogna fare un multicentrico bisogna però questo è un percorso diverso rispetto alla brevettazione questo si chiama validazione è la prima volta che non metto la mia diapositiva storica che credo di aver fatto vedere in tutti perché ho pensato che non vi interessasse ed è esattamente questo un qualunque prodotto meccanico quattro tappe tre anni sei al mercato un prodotto una soluzione innovativa in ambito life science quando arrivi al prodotto ricominci il giro prima di arrivare al paziente perché devi fare tutte le fasi di studio di clinical trial devi fare devi fare tutta la normativa di accettazione tutta la normativa sostanzialmente l'ufficio brevettuale si fida dell'affidabilità del dato che io sto riportando perché potrei anche dire questo è un market diagnostico ma in realtà poi scopriamo che ha una sensibilità del 10% e non serve a niente allora in ambito life science un conto è l'invenzione la soluzione tecnica al problema il problema è non esiste un marker specifico che identifica per cui la correlazione è se c'è il marker c'è una diagnosi di malattia ok questo è io ti risolvo questo problema e ti propongo questo marker e ti do l'evidenza che nei pazienti che sono portatori di questa malattia uso il marker riscontro positività in quelli sani non c'è positività punto questo è il mio prodotto poi che il mio prodotto possa essere inserito in un kit che deve essere validato validato spesso contro lo standard che viene a oggi utilizzato ok ed entrare poi in adozione all'interno di tutto un percorso di diagnostica e di terapeutico lì è tutto un altro concetto sono due cose da tenere separate va bene siamo decisamente in ritardo ma non importa salteremo delle cose un po' più un po' più teoriche va bene mi piace l'immagine del team nel senso che questo lavoro dovete farlo insieme di laboratorio tra colleghi ma soprattutto con l'ufficio grant e l'ufficio di trasferimento tecnologico non a caso in alcuni istituti sono lo stesso ufficio in altri un po' più strutturati no però ci deve essere questa attenzione sin dal momento in cui si sottopone la domanda di finanziamento a quando poi si riesce a tutelare un'invenzione attori protagonisti di una domanda di brevetto essenzialmente due gli inventori e i titolari ok in inglese hanno due nomi diversi applicant è colui che è titolare di una domanda assegni è colui che è assegnatario della domanda di brevetto concessa in italiano titolare sono due ruoli totalmente diversi l'inventore è colui che possiede i diritti morale dell'invenzione questa è un'altra delle mie battaglie il brevetto non è come il manoscritto non inserisco il capo laboratorio il vicino di casa eccetera eccetera cose che sappiamo tutti che nelle pubblicazioni si finisce con tre che hanno lavorato quindici nomi dentro il paper per tutti i motivi validi o non validi non è questo l'oggetto della mia discussione nel brevetto deve essere considerato inventore solo colui che ha partecipato in maniera inventiva alla soluzione tecnica quindi anche il tecnico di laboratorio che ha realizzato la mia invenzione quindi materialmente ha pipettato ma non è stato lui a pensare l'invenzione lui ha semplicemente eseguito i miei ordini per il bene che io possa volere la riconoscenza che possa volere al mio tecnico di laboratorio lui non dovrà essere considerato inventore perché lui non ha inventato lui ha eseguito una mia indicazione questo succede normalmente? no ve lo dico tranquillamente dentro i nomi degli inventori c'è ancora un po' di tutto però non è mia competenza definire questo sì questo no sappiate che però la regola con cui si sceglie e si indicano gli inventori è un contributo effettivo di solito si dice deve almeno aver partecipato alla realizzazione di una rivendicazione non si attua però questa è la regola ok il titolare invece è colui che possiede i diritti patrimoniali facendo un esempio banale nella costruzione di una casa il proprietario della casa ha i diritti patrimoniali su quella casa può disporne in tutti i modi graditi l'architetto e il muratore sono gli inventori che hanno progettato e costruito fisicamente la casa ok in Italia uno dei pochi paesi insieme alla Svezia è ancora in vigore il professor privilege è normato dall'articolo 65 del codice della proprietà industriale e che cosa dice questo professor privilege per incentivare i brevetti rispetto alle pubblicazioni che è il professore che lavora presso un istituto di ricerca pubblico è contemporaneamente inventore titolare della sua invenzione se è realizzato con fondi propri c'è tutta una cosa lunga comunque si applica a un discapito di tutti gli commi poi dell'articolo 65 quindi in ambito universitario di ricerca pubblica IRCS CNR si applica questo articolo in ambito privato vige invece l'articolo 64 che dice che il titolare è il datore di lavoro e l'inventore è il dipendente che ha realizzato l'invenzione al di là delle mansioni della sua contratto lavorativo domandona può essere bypassata se per esempio l'istituto poi chiede di rilasciare tutti i titoli all'istituto stesso allora il termine non è ne rilasciare ma è cedere cedere sì ok ed è una vera e propria venditi come vendere la tua casa come la tua casa tua la vendi all'università questo non so gli altri però il politecnico attua questa cosa che tu inventore è una scelta libera dell'inventore mentre nel privato non c'è questa scelta tu come dipendente pubblico professore ricerca è libera fino a un certo punto perché io essendo pagato politecnico non posso vettarla privatamente perché io ho fatto quella scoperta nel laboratorio tali detali no 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 è un'invenzione non è una scoperta ma il professor privilege ti concede questo privilegio che sebbene tu abbia fatto un'attività non nel tuo garage non è un garage business questo è fatto nei locali dell'università se svolto con fondi l'articolo 65 è complesso a 5 commi di cui il primo dice che il professore è inventore è titolare di tutte le invenzioni realizzate con fondi di ricerca indipendente se la ricerca è realizzata con fondi che vengono assegnati all'istituto non è più titolare è solamente inventore e sempre poiché non abbiamo delle invenzioni meccaniche comincia qui finisce qui ma è un percorso lungo non si riesce mai a definire con quali finanziamenti tu hai realizzato la tua ricerca perché un pezzettino l'hai fatto con il fondo con il finanziamento della charity l'altro pezzettino di risultato arriva down quindi è un limite difficile per cui alla fine si è molto generosi e si dice caro inventore che lavori in un istituto pubblico vuoi tenerla titolarità sì allora a questo punto disponi ci sarà quel famoso regolamento che dicevamo dispone della tua invenzione come meglio preferisci depositi paghi cerchi un partner industriale sviluppi ricordati che nel caso in cui la tua invenzione venga realizzata e produca dei ritorni alla tua università o al tuo ente di appartenenza dovrai riconoscere una percentuale che di solito è tra i 30 e i 50 per cento dei tuoi ritorni dalla valorizzazione però tutto il lavoro deposito valorizzazione cosi lo smazzo io punto ok e l'ufficio di trasferimento a quel punto lì ti saluta e dice grazie è stato bello ma io non posso aiutarti nel caso in cui tu decida di cedere la titolarità allora a questo punto ovviamente a seconda del regolamento vigente l'università l'ente si fa carico del percorso di tutela paga e anche qui quanto paga e quanti anni paga per esempio nel mio istituto paga per tutto il corso della vita del brevetto a meno che non venga licenziato valorizzato e quindi è un contratto di licenza che domani il professor Granieri vi descriverà però i costi e tutto il percorso è accompagnato i costi sono dell'istituto e il percorso è accompagnato dall'ufficio di trasferimento tecnologico tuo inventore che cosa ci guadagni alla fine sempre nel regolamento c'è scritto che in caso di valorizzazione per legge articolo 65,2 premio produttivo no non è un premio produttivo questo è nel privato nell'ambito pubblico c'è una quota minima pari al 50% dei ritorni fatti con la valorizzazione del tuo brevetto fatto salvo le spese ok è di legge è diritto questo non è che se cedo prima la proprietà mi viene riconosciuto un premio inventivo e basta e poi tutti gli altri di legge se lavori in un ente pubblico devi avere la premialità del soggetto è un'altra cosa anche noi abbiamo con la piramide dei ricercatori degli IRCS stabilito delle premialità depositi un brevetto a fine anno avrai una premialità su questo costituisci una spin off avrai una premialità attrai un grant di ricerca premialità queste sono delle contrattazioni sindacali sul contratto sulla parte invece di valorizzazione il brevetto che tu hai ceduto all'istituto dovrà riconoscerti il 50% dei proventi derivati dalla valorizzazione della tua invenzione sono due cose separate ok ci sono vantaggi e svantaggi nel senso che il vantaggio è non devi pagare una lira del deposito hai il supporto di tutto un sistema di competenze che tu magari non potresti avere a meno che tu non vada in contatto diretto con l'azienda e da allora è tutto un altro inquadramento rischi e benefici sono in fondo a carico del titolare tutto questo è normato direi dai regolamenti interni in ambito privato l'articolo 64 invece prevede che se la tua invenzione è fatta nel contesto delle tue mansioni lavorative non riceverai alcun che se invece un'attività svolta al di fuori delle tue mansioni lavorative ti verrà riconosciuto un eco premio e sulla parola e sull'aggettivo eco si apre il mondo ben trovati io ripartirei perché temo che dovrò saltare molto delle mie diapositive ma mi è piaciuto molto l'interazione che abbiamo avuto quindi la terrai su questo stile e se qualche diapositiva non ve la racconto ve la lascio e va bene e sono sempre a disposizione per domande allora manca qualche collega ma io ricomincerei perché ormai è rimasto poco tempo sì un'oretta vediamo di chiudere quello che manca questo questa diapositiva voleva solo riassumere il concetto che il brevetto passa attraverso uno stato di domando io chiedo il permesso di avere certi diritti e poi qualcuno verifica quali diritti e a quel punto il mio brevetto è concesso il testo che voi avete di domanda di brevetto è molto simile come dicevamo a un manoscritto la prima pagina è un po' complessa questa è l'esempio di una pagina di un brevetto europeo si capisce che è europeo perché queste letterine indicano la nazione e poi la differenza tra concesso o domanda viene in realtà identificata da queste ultime due letterine che sono A per applicant e B per granted i numeri 1, 2, 3 corrispondono alle versioni che vengono elaborate a seconda delle richieste i cosiddetti amendment dell'esaminatore questo è quanto l'abbiamo già detto un'invenzione un brevetto nel caso in cui la vostra domanda iniziale contenga più invenzioni l'esaminatore vi chiederà di depositare una divisionale cioè di scegliere quale è l'invenzione che rimane nella domanda che voi avete depositato e depositare delle divisionali sulle altre invenzioni che l'esaminatore ha identificato l'unico diritto che vi viene garantito che tutte le altre domande divisionali che voi depositate prendono la stessa data di priorità della domanda originale che voi avete depositato quindi è un po' come se sulla linea di partenza tutte le invenzioni partissero dallo stesso giorno dicevamo importantissimo per noi ottenere il giorno di deposito del brevetto la cosiddetta prior date la data di priorità perché tutto ciò che è pubblicato prima della data di priorità costituisce l'artenota sulla quale voi dovete confrontarvi per la caratteristica di novità tutto ciò che è pubblicato dopo quel famoso giorno di priorità compresi i vostri manoscritti tesi presentazioni a convegni non costituisce arte nota e quindi non va a ledere la novità della vostra invenzione naturalmente oggi vige il concetto scusate vige il concetto di first to file non first to invent quindi il primo che deposita la domanda di brevetto è l'inventore di quella particolare invenzione che cosa succede dopo il deposito del primo della data di priorità avete un altro diritto concesso che è l'anno di priorità cioè siccome la domanda di brevetto è un diritto territoriale e di solito si procede con la scelta di un paese in cui iniziare a fare questa domanda di brevetto a depositare la domanda di brevetto avete 12 mesi di tempo priority right questo così viene definito per ampliare la territorialità in cui richiedere i vostri di monopolio naturalmente il deposito di domande successive alla prima deve essere effettuato in paesi diversi ma con lo stesso testo e quindi con lo stesso contenuto della domanda di priorità altrimenti si cade in uno degli articoli che è materiale aggiunto e di conseguenza non può essere ci sono dei problemi di brevettazione la semplifico così è un po' più complessa di così ma comunque a questo punto si depositano delle domande in paesi diversi ci sono strategie di istituto strategie legate al mercato del prodotto la scelta dei paesi non è una regola univoca a volte non si deposita null'altro che la prima domanda perché perché nei 12 mesi di solito anche in Italia cosa che non avveniva prima del 2007 ma dal 2008 la convenzione con l'ufficio europeo fa sì che anche le domande di brevetto italiane vengono esaminate entro 9 mesi dalla data di primo deposito si riceve un primo riscontro un primo esame fatto da un esaminatore nel nostro caso italiano europeo che praticamente dà riscontro sulla caratteristica di novità quindi si riceve il cosiddetto novelty report o search report che corrisponde alla verifica che in teoria viene già fatta internamente dai vostri uffici di trasferimento tecnologico sulla base di questo report si decide la strategia se l'esaminatore ci dice non è nuovo è quello purtroppo come dicevamo è un criterio oggettivo se esiste quel documento bisogna rispondere di quel documento se invece ci dice non è troppo inventivo 1, 3 claims sono nuovi ma poi 5, 6, 7 è una questione di discussione e di report che verrà predisposto in risposta a questa ricerca 9 mesi è il tempo promesso dall'Uibm e in generale dagli uffici di brevetti inizialmente non era 9 mesi era un po' più lungo devo dire che ultimamente sono puntualissimi 9 mesi dalla data di deposito arriva questo riscontro che non viene eseguito in Italia ma viene eseguito presso l'epo abbiamo una convenzione con l'epo e se io non ho ben chiaro in quali paesi voglio nazionalizzare la mia domanda che cosa posso fare esiste una quello che io chiamo diritto di prenotazione ok e che viene in gergo definito domanda PCT l'acronimo sta per Patent Corporation Treaty in realtà non è una vera domanda di brevetto non resiterà mai in un brevetto concesso il PCT il PCT spiegato in parole semplici è una prenotazione in tutti quegli stati che aderiscono al trattato di poter depositare entro 30 mesi dalla prima data di priorità l'eventuale estensione quindi posticipo quel termine di 12 mesi ok a 30 mesi perché mi serve beh in ambito biomedico è fondamentale perché pensando a quando deposito la domanda di brevetto magari deposito in un momento in cui non ho ancora tutte le informazioni per un successivo sviluppo del mio prodotto e allora prendo tempo prendo tempo depositando un PCT vi ripeto è una domanda cosiddetta internazionale ma non esiterà mai in un brevetto internazionale anche qui sorrido quando nelle varie interviste si sente dire brevetto internazionale concesso non esiste il brevetto internazionale questa è semplicemente una possibilità di posporre quella fatica scelta su quali su quali mesi su quali paese effettivamente adottare che farò successivamente non so perché manca un'indicazione importante forse in una delle diapositive precedenti oltre i 12 mesi e i 30 mesi qui c'è una data fondamentale che è 18 mesi dopo 18 mesi dalla data di priorità la vostra domanda di brevetto che è rimasta segreta viene pubblicata ok forse era nella diapositiva del publisher perish quando pubblico allora posso pubblicare il giorno dopo della mio deposito però a questo punto se io pubblico non è più segreto quello che è contenuto nella domanda di brevetto se per un vantaggio competitivo industriale voglio mantenere segreto devo aspettare 18 mesi dalla data di priorità perché poi la mia domanda verrà resa pubblica e quindi allora io potrò rendere pubblico attraverso un manoscritto gli stessi gli stessi dati e questo è parte del contratto tra lo Stato e l'inventore io ti concedo un monopolio tu me lo descrivi bene lo puoi tenere segreto per 18 mesi ma poi lo devi pubblicare al diciottesimo mese esce quel documento che si chiama WO la pubblicazione internazionale che contiene nient'altro che la vostra domanda iniziale accessibile attraverso le banche dati una domanda se durante questo del rischio si possono aggiungere dati a questo punto no si possono aggiungere dei dati diciamo non sono dei dati sì allora non si possono modificare le rivendicazioni si possono aggiungere dei dati che vengono acquisiti che però hanno come data di priorità il momento in cui vengono aggiunti e servono per aumentare quella sufficiente descrizione richiesta dal brevetto quindi non cambi la materia su cui chiedi la protezione aggiungi delle descrizioni a supporto della sufficiente descrizione ma hanno valore dal momento in cui le aggiungi e non sono retroattivi quindi con la parte di ha un'altra tempista quindi questi dati si possono aggiungere sia durante il primo anno sia durante il primo anno allora durante il primo anno nel deposito delle domande dirette sul nazionalizzate puoi eventualmente integrare però in 12 mesi però si può fare inteso come integrazione di descrizione non come materiale aggiunto nelle rivendicazioni o di aggiunto di 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 dell'invenzione perché questo viene chiamata materiale aggiunto e porta all'invalidazione della domanda di brevetto è abbastanza complesso per farvi un esempio non è valido ma la sedia di prima io proteggo la sedia con quattro gambe se dopo 12 mesi dico sedia con quattro gambe di colore gialle perché al sole si scalda perché al sole si scalda non lo posso aggiungere posso aggiungere dei dati che dicono che se la sedia è gialla il sole si scalda ma sono delle descrizioni non sono delle rivendicazioni materia complessa qui ci vuole un consulente brevettuale il fai da te è rischiosissimo eh questo sicuramente però se ha un n di 3 di topi si si ci sta è un supporto di validità dei tuoi dei tuoi dati certamente si spesso viene richiesto perché spesso è l'esaminatore che ti dice rispetto a quel lavoro pubblicato i tuoi dati sono e tu allora li rinforzi e riesci a portare avanti questo ok che cosa succede dopo 30 mesi bisogna veramente fare la scelta delle nazionalizzazioni e a questo punto parte un percorso indipendente per ciascuna domanda di brevetto è come se ognuna vivesse di vita propria perché ognuna verrà esaminata dall'ufficio competente nel singolo paese ci saranno risposte diverse dai vari esaminatori superato l'esame ci sarà la data di concessione la concessione del brevetto italiano sarà diversa dalla data di concessione del brevetto europeo piuttosto che australiano piuttosto che statunitense posso chiedere una cosa riguardante l'Italia io posso se brevetto in Italia non brevetto in Europa se la domanda è depositata in Italia sarà solo una domanda di brevetto italiano se tu depositi una domanda di brevetto europeo potrai superare in maniera univoca o meglio la tua domanda di brevetto verrà esaminata dalla commissione europea e poi la validazione di questo brevetto dovrà essere fatta in tutti quei paesi che tu deciderai che aderiscono a questa convenzione tra cui l'Italia quindi la situazione è spesso qual è? si parte con un deposito nazionale italiano si estende in Europa quando il brevetto europeo è concesso lo si nazionalizza in Italia e quindi tu avrai due brevetti validi in Italia quello italiano e quello europeo italiano sarà a te la tua discrezione decidere quale conservare perché i costi poi una volta concesso il brevetto deve essere mantenuto con i cosiddetti costi di mantenimento che sono nient'altro che delle annualità che vanno pagate in ciascuno Stato ed ecco che a questo punto appunto in verde i costi di mantenimento in arancione i costi di prosecuzione cosiddetti e corrispondono a degli impegni finanziari importanti se il titolare e l'istituto in accordo con il regolamento interno si farà carico di questi costi se trovi un licenziatario a cui dare in licenza probabilmente sarà licenziatario se invece sei indipendente e tu inventore sei anche titolare sarai tu a doverti far carico di queste cifre si parte con un deposito iniziale che ha un costo di 2.500 3.000 euro per una domanda di brevetto italiana e si arriva con dei costi per esempio europei di concessione e nazionalizzazione di un brevetto europeo nei 5 paesi Italia Gran Bretagna Francia Germania e Spagna questi sono i fantastici 5 che di solito si nazionalizza che corrispondono a circa 40-50.000 euro totale a cui poi vanno aggiunte ogni anno le spese di mantenimento cioè le hanno al fi quindi è un impegno economico non semplice dall'anno prossimo entrerà in vigore il brevetto unitario europeo ha delle regole un po' diverse non ve le racconto perché comunque per gli impegni finanziari di un ente di ricerca difficilmente l'invenzione viene nazionalizzata in tutti i paesi che aderiscono all'epo quindi noi non abbiamo dei vantaggi diciamo immediati sicuramente per le grosse aziende che hanno molti brevetti e sono interessate alla protezione in tutti i paesi europei il brevetto unitario è un grandissimo vantaggio ecco un altro termine che vorrei lasciarvi famiglia di brevetti che cos'è la famiglia di brevetti è l'insieme di tutti quei brevetti che sono concessi nei diversi territori ma sulla stessa invenzione questo è un concetto molto importante quando si procede nella valorizzazione perché poi qui domani il professor Granieri vi racconterà magari anche oggi già il professor Piccaluga che si è nascosto dietro ma è già presente il nostro docente del pomeriggio vi racconterà le strategie di valorizzazione non necessariamente do in licenza tutta la famiglia di brevetti magari in modo esclusivo diversifico a secondo dell'utilizzo uso e campo questi sono i due ambiti a cui fare molto attenzione nella valorizzazione per quale uso ricerca produzione uso interno e campo medicale ingegneristico astronomico molto importante però sono tutti brevetti che tutelano nel diversi territori una stessa invenzione questa era la pausa caffè che abbiamo già fatto quindi la salto allora adesso brevemente vorrei percorrere con voi gli altri diritti non sono sicura non sono sicura di poterlo fare e quindi correrò un po' ma se avete domande io riadotterei lo stesso schema interattivo fermatevi e io approfondisco diritti d'autore dicevamo sono un diritto intrinseco all'arte di creazione quindi non c'è la necessità di registrare si applicano essenzialmente a questi ambiti e in realtà hanno la specifica di richiedere un linguaggio di espressione dell'opera creativa per cui nel caso di prodotti letterari ovviamente il linguaggio parlato nell'ambito di opere musicali le sette note e tutto quello che il linguaggio di espressione musicale richiede nell'ambito di software codici e i linguaggi appropriati di espressione di questo ok dicevamo il diritto è intrinseco al momento della creazione a volte può essere utile registrare però la data di creazione ed ecco che si procede al deposito del diritto di copyright l'algoritmo che dicevamo sopra viene depositato come algoritmo è una fotografia e questo è il grande limite di questi diritti è la fotografia fatta in quel momento se all'algoritmo cambio qualcosa è un altro algoritmo e quindi io devo tutelarlo con un nuovo deposito di copyright hanno un vantaggio hanno un vantaggio diciamo di costi molto limitati e una durata decisamente interessante a 70 anni dal deposito o dalla creazione ok quindi sicuramente uno strumento da tenere presente per attività come appunto dicevamo il software forse più interessante che non il deposito di un brevetto che ha una complessità procedurale molto più lunga e costosa rispetto a un copyright i marchi allora sui marchi farei un percorso diverso prima vi faccio degli esempi e poi dagli esempi deduciamo la teoria perché secondo me il marchio è ancora un ambito di protezione intellettuale poco usato negli nostri istituti in realtà ha dei grandissimi vantaggi e vi faccio un esempio di alcuni marchi ok importanti in ambito life science se vi dico Eppendorf che cosa vi richiama il nome Eppendorf la Eppi come viene chiamata la Eppi la Eppi la famosa Eppendorfina che tutti usiamo e che di qualità poi ovviamente molti lo hanno riprodotta ma quando puoi scegliere scegli Eppendorf e quindi la Eppi la famosa Eppi che poi è stata traslata in tutte le dimensioni 2 ml 1 ml 5 e quello piccolino da PCR quindi un nome che richiama un prodotto e un concetto che spesso è qualità se posso scegliere scelgo Eppendorf non scelgo qualcos'altro Cornig le fa però Falcon le fa ma per me la Eppi la Eppi la Falcon e allo stesso modo la Falcon è il tubo da 50 ml esatto quindi diventa un nome distintivo di un prodotto univoco e spesso è associato a qualità io voglio quello non voglio un altro Perkinelmer la prima macchina da PCR Perkinelmer questo non so chi di voi l'ha usato adesso ci sono le cellule a Piltiere le PCR sono grosse così ma al suo tempo qui si è cominciato prima che nel bagnetto nei vari bagnetti no e anche l'enzima la TAC polimerasi era Perkinelmer io non facevo reazioni PCR se non mi compravano la Perkinelmer perché era questione di qualità con quell'enzima io so che il mio esperimento funziona non sto a pensare forse non ha forse non è di qualità non è buono non ho il risultato non è venuto perché problema dell'enzima no io ho la miglior qualità possibile quindi distintivo anche di performance e di e di e di risultato Gilson è chiaro il Piperman o Microman come viene chiamata e queste sono le pipette poi tutti anche Eppendor fa le pipette Falcon Sigma tutti ormai producono però questo è il set di pipette che vogliamo avere sul nostro bancone ok e non diciamo pipetta diciamo la Gilson nel linguaggio comune è distintivo Kiagen l'abbiamo discusso prima i kit di purificazione di plasmidi erano Gilson cioè erano Kiagen signori non c'era nient'altro adesso anche qui costano di meno Sigma e tutte queste cose però sul bancone questo io volevo ok e non veniva chiamato il kit di purificazione ma hai il Kiagen mi dai una colonna Kiagen hai il botticino Kiagen così poi magari c'era solo sodio cloruro e poca altra cosa dentro no idrossido di sodio in realtà però se lo compravo già confezionato anziché fatto con le pastigliette ma vuoi mettere la mia reazione di purificazione non aveva paragoni quindi riassumendo l'importanza di un marchio ok il marchio è spesso distintivo e quel termine quella parola può essere costituito da un nome ma anche da un'immagine e quindi è un marchio figurato se è un marchio figurato viene depositato in grigio perché non è associato al colore che poi possono successivamente essere interpretati su quel marchio ma il marchio depositato originalmente comprende tutti i colori quindi grigio e non è ovvio ok vi farò dopo un esempio di un marchio che non è ovvio ok deve però essere nuovo quindi io non posso usare dei marchi che già comprendono cioè non posso proteggere un marchio di cui tutto o una parte è già compreso in un altro marchio perché allora non sarebbe più distintivo e quindi la ricerca di novità deve essere comunque fatta anche questo è un diritto territoriale abbiamo tre opzioni nazionale italiano europeo o internazionale e ha un vantaggio commerciale incredibile dura dieci anni il diritto ma può essere rinnovato all'infinito quindi è uno di quei valori in asset a qualunque azienda spin off compreso che aggiunge veramente valore allora bravo grande domenio messa ma l'hai subito notato r è il marchio registrato il trademark è il marchio riconosciuto ma che non ha una registrazione cioè è distintivo perché se io te ne parlo tu lo associ a ma non è registrato ok diciamo che non ha un grande valore commerciale perché perché poi tu non puoi è più una distintività riconosciuta che non legale ovviamente il consiglio è per favore registratelo anche qui i costi sono bassissimi non c'è dopo aver superato il controllo di novità il marchio viene concesso dal punto di vista legale non è così forte come un marchio registrato ok ecco piccolo dettaglio ma importante i marchi vengono concessi per un prodotto o per un uso che deve rientrare in una delle classi elencate nella classificazione di inizia ok se non sbaglio sono 44 classi e quindi io posso proteggere il mio marchio in una o in tutte o in più di una di queste classi e la mia protezione varrà nell'ambito della classe merceologica a cui io ho associato il mio marchio vi faccio l'esempio banale Gucci marchio depositato produzione di abbigliamento scarpe se qualcun altro lo volesse usare per non lo so produzione di una mela una varietà di mela speciale se la famiglia Gucci non aveva protetto anche questo tipo di classe merceologica poiché non è ovvio l'associazione e non è stato protetto in teoria il mercato è libero lo dicevamo può essere composto da una semplice parola o figurativo e quindi associato a un disegno esempio classico sul non ovvio posso distinguere per esempio con un simbolo anche stilizzato una varietà di mela con una mela cioè posso usare come simbolo distintivo una mela graficamente interessante per richiamare il concetto di una varietà di mele no perché non è distintivo perché questo è stato un marchio di successo quello della Apple perché la mela non richiamava il computer ok e poi la mela morsicata per il gioco del bite e quindi tutta l'associazione però è distintiva perché pensando a questo logo non era intuitivo associarlo al prodotto mela ma a un prodotto di un altro tipo questa è l'evoluzione del marchio dire che poi il marchio può evolvere può essere modificato eccetera eccetera ma quando voi vedete questo non pensate alla varietà Macintosh da qui sono forse partiti o alla Melinda del Trentino Alto Adige pensate a un computer ok e questa è la forza del marchio non ho vietà quindi il mio simbolo non richiama il concetto che rappresenta ma richiama un altro un altro prodotto o servizio quindi riassumendo perché è importante anche considerare il vostro il vostro un marchio per una start up decisamente un valore aggiunto al prodotto piuttosto che alla qualità prima mentre passavamo in revisione il prodotto la Eppi la Gilson c'era spesso associato anche l'idea di positività di qualità di quindi dal punto di vista commerciale una garanzia di valore ok i costi sono veramente veramente molto molto bassi e quindi meritevole di considerazione l'ultimo argomento era i trade secret che corrispondono in altre parole anche al know-how cioè quella parte di conoscenze che sono un valore ma che vengono mantenute segrete il valore del 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 la ricetta della coca cola credo che sia l'esempio più banale che vi possiamo dare non è depositata non è descritto ci sono due varra tre dipendenti all'interno dell'azienda che conoscono questo segreto e non viene non viene da mandato molti hanno cercato di imitarlo viceversa se fosse stato pubblicato dopo vent'anni fosse stato brevettato dopo vent'anni tutti avrebbero avuto a disposizione la ricetta e la composizione della coca cola come si diceva ha dei limiti se viene descritto legalmente o illegalmente tutti lo possono riprodurre perché non è tutelato e è difficile dare difficile dare un valore perché ovviamente può andare da infinito a pochi pochi euro proprio per la difficoltà la difficoltà appunto di di mantenerlo segreto il valore intrinseco è la segretezza questo però non impedisce traslando un pochino con il famoso know-how di un istituto di un ricercatore di un gruppo di ricerca non impedisce di dare valore alle vostre conoscenze quando ci sono contratti di ricerca allora è possibile valutare quel qui di in più che è la vostra esperienza che non corrisponde a nessun prodotto o servizio ma è il valore aggiunto che voi portate e quindi qui interviene l'ufficio legali o il TTO che nel contrattare e negoziare questo accordo dovrà tenere in conto anche di questo allora adesso era previsto vediamo se riusciamo questo lo facciamo un po' più veloce anziché dividerci per gruppo facciamo un esempio urca perché non c'è mi manca mi manca una diapositiva non si vede dove è andata no eccola qua eccola qua allora facciamo un caso una scarpa mettiamolo sullo sportivo perché è un argomento in cui più o meno tutti siamo riusciti abbiamo delle competenze io ho questo tipo di prodotto ok è una scarpa innovativa che ha del valore aggiunto in termini di tecnologie che contiene la suola è modificabile sa assorbire il peso il polimero elastico che contiene può essere diciamo adattato singolarmente quindi qui c'è una tecnologia che è sicuramente è meritevole di brevetto ma in aggiunta al brevetto su quello specifico dettaglio suola adattabile che sa assorbire il peso e quindi performare in un certo modo quanti altri valori aggiunti e quanti altri tipi di protezione possiamo dare al prodotto scarpa sportiva c'è un trademark quindi un brevetto o anche due a seconda delle tecnologie innovative che sono applicate poi abbiamo il trademark che può essere il nome della scarpa o il brand dell'azienda che lo distribuisce il design della scarpa i materiali che però rientrano più in un discorso di soluzione tecnica lo faccio in questo particolare polimero perché è impermeabile oppure faccio i buchini perché passa l'aria e quindi è comunque correlato a brevetti tecnologici invento un jingle per la curiosità e si porto il coppia e il testo bene e come produrla metodo di produzione allora design della scarpa lo abbiamo messo il design custom personalizzato lo abbiamo messo eventualmente se inserisco una capacità di analisi di chi utilizza la scarpa riesco a migliorare la performance quindi intelligenza artificiale il brand e il logo lo abbiamo messo e naturalmente un website ci sarà sempre un dominio web dove io descriverò il mio prodotto e qui siamo di nuovo sulla creare valore progetti di ricerca li abbiamo già a volte i siti dedicati al progetto di ricerca ma non dimenticate di registrare eventualmente il dominio per un prodotto di particolare successo quindi non c'è solo il brevetto ok quante cose sono sottese in realtà come protezione di proprietà intellettuale a un prodotto che va sul mercato ok questo fa parte del project management con cui abbiamo iniziato tenete conto che non c'è solo quel tipo di valore che è la mia innovazione tecnica ma c'è tutto un insieme di valore aggiunto che può essere creato allora qui è semplicemente la parte conclusiva che in realtà però abbiamo già discusso all'inizio e una volta ottenute queste protezioni non vanno raccolte come libri in biblioteca perché sarebbe valore sprecato devono essere valorizzati e in ambito life science il percorso è lungo noi come enti di ricerca arriviamo fino a un certo punto poi necessariamente dobbiamo collaborare con un'azienda non vi parlo del licensing perché se ne occuperà domani il professor Granieri non vi parlo dello spin off che è un altro percorso perché oggi il professor Piccaluga vorrei spendere due parole sulla ricerca collaborativa probabilmente anche questi contratti domani vi verranno illustrati dal professor Granieri ma io vorrei affrontare quei temi più life science che sono nel nostro lavoro quotidiano e cominciano proprio con la stessa prima domanda quando e dove cominciare a pensare alla protezione della proprietà intellettuale lo abbiamo detto negli accordi di collaborazione che possono essere direttamente stipulati con un partner industriale oppure nel grant consortium agreement grant agreement lì dobbiamo attentamente descrivere sin dall'inizio qual è il contributo di proprietà intellettuale che noi apportiamo al progetto che uso possiamo farne noi e gli altri partner di progetto e tutto questo prende il nome di background IP chi di voi è abituato a fare domande di finanziamenti compila ormai una scheda di background IP che cosa contribuisci chi può usarlo e per quanto tempo può usarlo solitamente gli usi commerciali sono sempre esclusi e si dice per il tempo della durata del progetto e per l'uso necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto proposto importante definire sin da subito anche chi è la titolarità del foreground alcune agenzie di finanziamento lo abbiamo detto stabiliscono a Prioli che tutti i risultati sono loro altre invece sono c'è una negoziazione possibile se ci sono più partner ovviamente si possono definire regole diverse di titolarità l'inventività è sempre inalienabile è dell'inventore che ha fatto l'invenzione ma la titolarità cioè i diritti patrimoniali quelli possono in alcuni essere negoziati fin dall'inizio con delle regole le due regole spannometricamente che si applicano sono una contributo di titolarità pari per tutti i partecipanti al progetto non importa se io effettivamente ho contribuito ma a monte decido che tutti siamo titolari in quota parte uguale oppure titolarità definita sulla base del contributo inventivo apportato all'invenzione questo è un modo più elegante per dire litigheremo dopo ma almeno si dice che il criterio è questo in alcuni casi ci sono delle granting agency che non dicono è tutto mio ma dicono il 10% della titolarità di qualunque risultato proteggibile venga generato con il mio finanziamento è di mia titolarità faccio un esempio Teleton per chi di voi lavora con Teleton Cariplo invece è quell'agenzia che dice è tutto mio quindi tenetene in conto quando andate a fare la protezione perché di questo titolarità dovrete tenere in conto questa è una visione ottimistica che va sulla scia di quanti brevetti dobbiamo depositare nella nostra vita di ricercatori tanti soprattutto se paga l'istituto ma non perché c'è un desiderio di malutilizzare fondi pubblici perché poi il raggiungimento del mercato di proposte inventive passa attraverso quello che viene chiamato l'imbuto della delusione e quindi pochissimi dei prodotti che vengono tutelati arrivano al mercato ma è una possibilità di controllare tutte le altre tecnologie perché se anche un brevetto viene depositato e poi non valorizzato costituisce scelte nota da noi è alta siamo sul 40% ma è una in realtà non è una grande non è una questione di abilità ma è una questione di criteri di scelta noi non brevettiamo cioè noi non accettiamo titolarità di proposte inventive che non abbiano un potenziale interlocutore industriale già identificato mettiamolo in butto al contrario quindi sì in realtà devi già avere chiaro che ci sono dei potenziali partner industriali interessati alla tecnologia il mio ambito è un po' fortunato perché io lavoro in un istituto dove si fa ricerca traslazionale quindi tutta l'applicazione dei risultati è già pensata con un'applicazione con un trasferimento e per assurdo questo è registrato ma poi dirò che non è vero il mio lavoro è opposto non è andare a identificare i partner industriali e andare a intercettare i partner industriali che hanno già fatto accordi con i miei inventori perché in virtù del professor privilege possono farlo e quindi vi posso dire che in una mappatura di rapporti di aziende ho raccolto più informazioni dai miei ricercatori che qualunque banca dati che avessi voluto cercare compresi cellulari di contatti diretti che mai avrei sperato quindi nel mio ambito medicale la mia fortuna è che è intrinseco al lavoro che viene fatto il trasferimento però e quindi ecco perché c'è un 40% non partiamo da livelli base questa è la famosa disegno che di solito poi ha una parte di ritorno dal mercato in realtà dai diritti di proprietà intellettuali al paziente nel caso biomedicale che qui non ho messo prima volta ma forse invece andava usato le tappe sono semplici ma nonostante uno schema molto semplice le varianti sono tante sono tante molto più complesso di questo in ambito meccanico elettronico questo è un percorso che dura tre anni in ambito life science dovete considerare dieci anni se tutto va bene anche quindici prima di poter applicare al paziente l'innovazione e quindi avere un ritorno di impatto su quello che avete fatto l'ultima parte che riusciamo poi lasciamo qualche domanda dieci minuti questa tavola che credo avete già visto in seminari eccetera è la tavola del livello del cosiddetto TRL Technology Readiness Level c'è chi lo chiama Market Readiness Level il concetto è abbastanza simile si parte da un TRL basso tipico della parte di ricerca di base accademia per arrivare a un TRL alto di un prodotto che è già pronto per raggiungere il mercato abbiamo queste fasi iniziali tipiche della ricerca queste fasi finali tipiche dell'industria il mondo di mezzo è una terra abbastanza rischiosa e sconosciuta sono certa che ieri il professor Pietrabissa ha commentato qualcosa su ricerca sviluppo e mercato ovviamente questa è la parte più diciamo pericolosa e sfidante ma se vogliamo quindi il rischio è alto ai livelli di TRL bassi e scende strada facendo e il valore aumenta verso il TRL questo perché qualunque progetto in cui è richiesto di spiegare lo sviluppo l'avanzamento ecco questo è un po' lo schema che vi viene chiesto di commentare con quale peculiarità se i momenti distinti sono ricerca sviluppo e poi ovviamente commercializzazione e se queste sono le diciamo così gli ambiti in cui no scusate gli ambiti in cui un progetto meccanico elettronico arriva e si distingue tenete conto che per la parte biomedicale questi nomi cambiano le attività sottese cambiano e naturalmente anche gli importi finanziari da dedicare quindi vediamo che per un dispositivo medicale non c'è a technology demonstration ma c'è un clinical trial in un ambito di kit diagnostico anche qui abbiamo i clinical trials ma poi abbiamo tutta la parte di regolatorio di normativa e di pricing del prodotto la stessa cosa si può dire per un prodotto medicale che partono tutti da un basic research ma l'evoluzione poi del risultato tutelato è una lunga strada che nulla ha a che vedere con il brevetto però bisogna anche qui nel deposito della tutela dei britti brevettuali tenere conto di questo lungo percorso e comprendere sin dall'inizio lo sviluppo ecco perché noi abbiamo un successo alto di valorizzazione perché tutto questo può essere pensato dall'inizio classico esempio di licenza con un'azienda se non la pensi con l'ottica dell'azienda il commento è un brevetto che sarebbe potenzialmente di un valore infinito peccato che manca quella rivendicazione che prevede l'uso e cominciano a raccontarti cose che tu come ricercatore non avevi pensato ma loro come azienda invece darebbero valore tipico delle cellule o dei prodotti cellulari bellissimo stupendo l'hai ottenuto in camera di culture o in una GMP perché se è ottenuto in GMP ha un valore incredibile se lo ottieni solo in una cell culture room beh vabbè allora hai capito e quindi lì la necessità di dire la linea cellulare che deposito alla banca dati l'ho ottenuta sotto K o l'ho ottenuta in una GMP perché una VAI la posso vendere a un pricing di un milione quella della GMP se sono fortunata e contratto bene 100 euro per pagarmi il terreno di cultura li recupero questo purtroppo è importante se poi la linea cellulare è ottenuta da un paziente da un campione biologico di paziente ecco che sto parlando di un anno di lavoro in certa quantità di finanziamenti necessari e ricominciare non è così intuitivo ecco perché ci tengo ad evidenziare anche questo punto un avanzamento di TRL di 2 di 1 che cosa vuol dire in termini di lavoro da produrre costi da sopportare 50 mila euro per un prodotto per un POC in ambito biomedico secondo voi per un avanzamento di TRL può essere una quantità utile? no dipende sicuramente no ecco però se voi già solo pensate ai costi dei prodotti dei reagenti utilizzati è un finanziamento un po' strettino ecco molto a più capienza finanziaria sarebbe auspicabile e così a maggior ragione ogni volta che devo proseguire su questa scala io mi fermo qui domande se ne avete volentierissimo la strada è lunga però non rinunciate alle vostre idee illuminatele e bocca al lupo domande io andavo a domande un po' nel senso che mi ha fatto questa problematica volevamo fare molti claim su la nostra provincia si e c'è stato detto dall'ufficio di limitarmi un pochettino perché potevano essere visitati poi da l'unico perché questo è conviziale quante convenienze le 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 allora questa è un'ottima domanda e ti ringrazio perché è un argomento che non ho trattato spesso nel deposito delle rivendicazioni o claims si amplia l'ambito di protezione rispetto ai dati che sono effettivamente in possesso e descritti quindi si chiede di più rispetto ai dati di cui si ha evidenza è una strategia ovviamente l'esaminatore poi limiterà quelle richieste che normalmente sono e quindi l'ottenuto la rivendicazione le rivendicazioni ottenute saranno inferiori rispetto a quelle richieste ma sempre un po' più ampi rispetto ai nostri dati quindi la strategia che i vostri consulenti brevettuali vi propongono tradotto semplicemente di esagerare esagerate nel senso che ci penserà poi l'esaminatore a ridurre le vostre ambizioni però sicuramente vale meritevole chiedere un po' di più ovviamente la limitazione e la concessione sarà poi basata su quello che è l'evidenza dei vostri dati e l'evidenza dell'invenzione che voi avete fatto banalmente i famosi brevetti blockbuster che tutti vorremmo avere in casa e che tutti gli interlocutori industriali ci chiedono non esistono più perché vi faccio l'esempio di un'azienda che qui illumina la tecnologia illumina sulle biz coniugate con i fluorofori quando fu depositato il brevetto in realtà loro chiesero la protezione sia sulla possibilità di catturare delle proteine dati di cui avevano effettivamente evidenza ma poi aggiunsero il DNA l'RNA dati di cui non avevano evidenza era una protezione prospettica a quel tempo poteva essere concessa oggi gli esaminatori sono molto meno generosi quindi un blockbuster tipo la tecnologia che l'illumina usa delle biz coniugate con i fluorofori oggi ce la sogniamo stessa cosa per i farmaci stessa cosa chiedete io direi che abbiamo se ci sono altre domande molto volentieri anche successive ci sono nelle diapositive i miei contatti abbiamo concluso una attinata intensa vi ringrazio perché siete stati molto attenti e interattivi su un argomento che non era facile molto tecnico abbiamo concluso in tempo e sono sono contenta direi che passo la mano e il microfono soprattutto alla dottoressa Nobile grazie mille Laura preziosissima come al solito sempre molto interessante ascoltarti noi a questo punto abbiamo una pausa pranzo il lunch è disponibile per tutti voi nel ristorante dell'auditorium che credo possiamo raggiungere direttamente dall'ascensore al quarto piano oppure ci conviene scendere da sotto allora li guidiamo facciamo un piccolo gruppo allora facciamo modello vorrei un tour leader vorrei un ora mi faccio dare di un ombrellino così ci seguite ovviamente tu e il professor Piccalunga siete i benvenuti con noi e ci rivediamo qui tra più o meno un'ora grazie mille a voi che siete sopravvissuti a questa mattinata direi un po' intensa ma dai siete coraggiosi bravi grazie mille